Bene, allora direi che abbiamo quasi rispettato anche il quarto d'ora accademico e possiamo dare inizio a questo nostro terzo dialogo delle edizioni di dialoghi di questo anno accademico. Io come al solito mi limito in realtà semplicemente a darvi il benvenuto e poi a ringraziare e a presentare i relatori di oggi perché poi come è noto e come accade di solito il coordinamento interno tra i relatori avviene in forma spontanea, ciascun relatore più o meno ha un spazio di 30 minuti per il proprio intervento e poi sono sicura che in particolare il tema di oggi sarà arricchito da un dibattito e da domande da parte del pubblico. Il tema di oggi riguarda le nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni e il titolo dice giustamente tra continuità e profili innovativi e vedremo che in effetti molti sono i profili innovativi che questa disciplina comunitaria porta con sé. Credo che avremo anche da parte dell'Avvocato Tita in particolare un accenno ai problemi di recepimento di questi strumenti normativi dell'Unione Europea e come di consueto la relazione di Samuel Cornella che è un nostro collega del gruppo trentino degli amministrativisti nonché possiamo dire esperto di competition law dato che segue da vicino e da Bruxelles le vicende che riguardano questo settore dell'azione europea. Il Dottor Tenka che non è la prima volta che ci raggiunge ai nostri dialoghi e lo ringraziamo nuovamente per questo e l'Avvocato Tita che è un abitué dei nostri dialoghi e in particolare porta sempre la sua expertise nel settore dei contratti pubblici. Allora io lascio ai relatori il microfono e vi auguro buon lavoro intanto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie a professoressa Marchetti per la presentazione. Io vi porto un intervento che riguarda l'inserimento di obiettivi sociali e ambientali all'interno della nuova disciplina europea sui contratti pubblici. Il mio intervento si divide in tre parti. Nella prima esaminerò la nuova impostazione finalistica delle direttive. Nella seconda mi concentrerò sul tema degli appalti riservati ai sensi dell'articolo 20 della direttiva 24 del 2014 che rileva rispetto alle finalità sociali. Una misura analoga si ritrova anche nella direttiva sulle concessioni all'articolo 24. Nella terza parte focalizzerò l'attenzione sul settore dei servizi sociali per poi concludere chiedendomi se alla luce delle cose dette ci si muova in un quadro di continuità o di innovazione rispetto al passato. Questo anche per rispettare il titolo della sessione odierna. Molto rapidamente nel marzo 2014 abbiamo avuto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione delle direttive 24 e 25 sugli appalti nei settori ordinari e riservati. Queste sostituivano come noto le direttive 17 e 18 del 2004. In aggiunta vi è una disciplina ex novo sulle concessioni ai sensi della direttiva 23 che sostituisce l'applicazione dei principi desumibili dal trattato per quanto riguarda le concessioni di servizi e l'applicazione della normativa di base di quella direttiva 18 con riferimento alle concessioni di lavori. Il recepimento delle tre direttive è atteso entro il termine di 24 mesi e quindi per l'aprile del 2016. Alcune brevissime annotazioni di background. Le tre direttive sono state anticipate da altre tante proposte legislative pubblicate dalla Commissione nel dicembre del 2011. Gli antecedenti sono un libro verde della Commissione che considerava tutte le possibili opzioni di riforma del settore, una consultazione con gli stakeholders intervenuta nel giugno del 2011 e una corposa relazione del Parlamento europeo che esaminava i risultati applicativi delle direttive 17 e 18. Sotto il profilo procedurale mi sembra molto interessante osservare che le tre direttive conseguono alla procedura legislativa ordinaria come prevista dal Trattato di Lisbona. Nel senso di tale procedura il Parlamento partecipa al processo legislativo comunitario come colegislatore dotato di pari dignità rispetto alla Commissione e al Consiglio. Ecco mi pare interessante osservare che il Parlamento rispetto al passato ha interpretato il proprio ruolo in modo molto proattivo. Ne è prova il fatto che la sola direttiva sui servizi ordinari è stata soggettata in Commissione Mercato Interno a 1600 emendamenti poi confluiti in una lunghissima serie di formulazioni di compromesso che le tre istituzioni hanno discusso nella fase di trilogo. La fase di trilogo è la fase finale delle procedure legislative comunitarie dove le istituzioni coinvolte si ritrovano periodicamente per addivenire a dei compromessi di natura politica e quindi sulle scelte di valore o di natura tecnica e quindi con riferimento al drafting normativo e alla sua qualità e al rispetto dei trattati e del diritto comunitario vigente. Quello che mi pare molto interessante è che il Parlamento ha avuto un ruolo decisivo su questioni di grande rilievo e la posizione della Commissione è infatti stata condizionata dal Parlamento per esempio per quanto riguarda la nuova disciplina su in-house providing o ancora rispetto ai criteri di aggiudicazione dell'appalto. Dicevo prima delle direttive 17-18 che come noto costituivano l'architrave del codice dei contratti di cui ha il decreto legislativo 163. Quanto alle finalità e all'impostazione finalistica queste perseguivano essenzialmente l'obiettivo di tutelare la concorrenza soprattutto in chiave trasfrontaliera, di garantire effettività alle libertà di circolazione desumibili ai trattati e di in definitiva consolidare il mercato interno. Le tre nuove direttive confermano l'obiettivo di valorizzare la concorrenza e sottolineano in aggiunta l'obiettivo di rendere più efficiente la spesa pubblica anche a ragione della crisi del debito che affligge diversi Stati membri. Se si legge l'analisi di impatto regolamentare alle tre direttive la Commissione insiste molto su questo punto, migliorare l'efficienza della spesa pubblica che ovviamente è qualcosa di noto perché è qualcosa che conosciamo dalla legge sulla contabilità dello Stato del 1923 ma oggi vi è un accenno notevole proprio rispetto alla necessità di limitare il debito pubblico. A questi obiettivi si aggiunge in maniera molto evidente rispetto al passato anche il perseguimento di obiettivi sociali e ambientali che erano ben inteso nominati nella direttiva precedente ma che oggi ricevono una trattazione e un'effettività che prima era sconosciuta. Le ragioni di questo nuovo approccio della Commissione sono spiegate nei primi considerando della direttiva dove si osserva che gli appalti rappresentano oggi il 20% del prodotto interno lordo europeo e quindi sono un utile strumento di mercato per perseguire interessi pubblici e diffusi. Gli interessi pubblici e diffusi perseguiti sono quelli declinati dalla strategia Europa 2020 che è la strategia politica seguita nell'ultima legislatura a Bruxelles per raggiungere una crescita economica sostenibile, equa ed inclusiva. Tale strategia è in corso di revisione proprio in questi giorni. Ecco con riferimento all'allargamento degli obiettivi incorporati nelle direttive sugli appalti vorrei proporvi un parallelo con la recentissima riforma del regolamento generale di esenzione in materia di aiuti di Stato entrato in vigore il primo luglio scorso. Ecco se noi analizziamo il regolamento generale di esenzione sugli aiuti di Stato vediamo che le esenzioni rispetto al divieto generalizzato di cui è l'articolo 107 del Trattato interessano misure che sono finalizzate agli stessi identici obiettivi che troviamo finalizzati anche nelle direttive sugli appalti e sulle concessioni. Scorrendo anche rapidamente le esenzioni del regolamento sugli aiuti di Stato vediamo infatti che sono esentati gli aiuti per la tutela ambientale e gli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori con disabilità. Su questo tornerò anche in seguito. Sono inoltre esentati gli aiuti alla formazione, gli aiuti a favore di ricerca e sviluppo e gli aiuti per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Questi non li potrò trattare ma sono comunque obiettivi che vengono ugualmente in aggiunta a quelli sociali ambientali incorporati nelle nuove direttive. Nel campo degli aiuti di Stato quindi si passa progressivamente da un modello di integrazione negativa che era basato sul mero divieto di aiuti ad una formulazione tramite le esenzioni di veri e propri accenni di politica industriale che sono decisi a livello europeo e vengono veicolati all'interno dell'ordinamento nazionale. Questo mi porta a fare due osservazioni. La prima è che il diritto comunitario risulta coerente nel funzionalizzare ai medesimi obiettivi tanto la disciplina sugli incentivi alle imprese attraverso la regolamentazione degli aiuti di Stato quanto la spesa pubblica attraverso la regolamentazione dei contratti pubblici e soprattutto degli appalti. In secondo luogo mi viene da osservare che la Costituzione economica nazionale è sempre più etero determinata a livello europeo come risulta da quanto vi ho appena spiegato e dall'imponente serie di interventi in materia di governance economica che il legislatore comunitario ha condotto nell'ultimo bienio. Il fenomeno è noto ma mi sembra allo stesso tempo che sia un fenomeno in costante evoluzione quantitativa e qualitativa. Penso quindi che la riflessione scientifica avrà modo di concentrarsi sul fenomeno in futuro. Venendo più al disposto delle direttive, l'integrazione dei nuovi obiettivi sociali e ambientali è ben chiara all'articolo 18 che ha rubricato principi per l'aggiudicazione degli appalti. L'articolo 18 ribadisce i tradizionali principi che informano la materia dei contratti pubblici ma in aggiunta osserva che gli stati membri dovranno attivarsi in modo fattivo per fare in modo che gli operatori chiamati a partecipare alle gare d'appalto rispettino gli obblighi di diritto ambientale, di diritto sociale e di diritto del lavoro così come stabiliti dalla normativa nazionale, europea e internazionale. Questa clausola generale che è stata definita clausola sociale generale viene poi ripresa e dotata di particolare effettività all'articolo 67 che riguarda i criteri di aggiudicazione dell'appalto e che si incentra con maggior accento rispetto al passato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, oggi preferita di gran lunga rispetto al criterio del prezzo più basso. Al proposito si spiega, e qui semplifico un discorso che richiederebbe ben altra trattazione, si spiega che la selezione del contraente deve avvenire in base ad un approccio costo-efficacia che si estrinseca in una valutazione sul miglior rapporto qualità-prezzo dei servizi, dei lavori e delle forniture. È interessante osservare che la valutazione sulla qualità ai sensi del nuovo articolo 67 non si incentrerà soltanto sul pregio tecnico o sulle caratteristiche estetiche ma potrà tenere in adeguata considerazione anche criteri ambientali, sociali e legati all'innovazione. Una disposizione analoga è contenuta anche all'articolo 70 sulle condizioni di esecuzione dell'appalto dove si ricorda che le pubbliche amministrazioni possono esigere particolari condizioni di esecuzione dell'appalto e che queste possono riferirsi non solo a caratteristiche di tipo economico ma anche a valori ambientali, sociali e relativi all'occupazione. Queste enunciazioni generali non spiegano ancora nel profondo quali sono in termini pratici i valori sociali e ambientali che potranno essere tenuti in conto dalle stazioni appaltanti. Per avere maggior dettaglio sul punto è quindi necessario fare riferimento ai considerando e quindi alla parte motivazionale della direttiva. La lettura dei considerando ci spiega che ai fini sociali sarà possibile considerare misure intese alla tutela della salute del personale, la promozione e l'integrazione sociale di persone svantaggiate e di gruppi vulnerabili, chiaramente tra il personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto e l'integrazione di disoccupati di lungo corso con un'eventuale fase di formazione per gli stessi nell'ambito dell'esecuzione del contratto. Sotto diverso profilo ai fini ambientali potranno valorizzarsi la fabbricazione di prodotti che non comportino l'uso di sostanze chimiche tossiche, l'utilizzo di macchine efficienti sotto il profilo energetico, la riduzione al minimo dei rifiuti e l'uso efficiente delle risorse con particolare riferimento al costo del ciclo di vita, che è un'altra delle novità delle direttive che viene trattata estesamente all'articolo 69. Infine, riprendendo un approdo della giurisprudenza della Corte di Giustizia, si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di fare riferimento ai principi e ai criteri del commercio equo e solidale. Ecco, questa elencazione chiarifica il campo di analisi, ma mi pare che lascia ancora impregiudicata la vera questione di rimente, ovvero come è possibile conciliare le nuove esigenze sociali ed ambientali con i valori di mercato che da sempre informano la disciplina europea sui contratti pubblici. A questo proposito mi pare particolarmente utile una sentenza della Corte di Giustizia, 368 del 2010, Commissione contro Paesi Bassi. La sentenza è particolarmente interessante e utile perché affronta la questione non in termini astratti, ma con concreto riferimento alle modalità di organizzazione delle procedure di selezione del contraente. In pillole i fatti. Un'amministrazione locale olandese emanava un bando sopra soglia per la fornitura e distribuzione di bevande e cibi tramite macchine automatiche. Nel bando l'amministrazione manifestava la ferma intenzione di perseguire anche obiettivi di carattere sociale ed ambientale e faceva coerentemente ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. È interessante notare che con riferimento ai prodotti da distribuire l'amministrazione richiedeva il possesso di marchi di compatibilità sociale e ambientale che venivano rilasciati da una fondazione olandese di diritto civile, erano quindi marchi privati. Il possesso dei marchi, per essere molto chiari, rilevava come specifica tecnica, come condizione di esecuzione del contratto e come criterio di aggiudicazione. A seguito della pubblicazione sulla cadetta ufficiale la Commissione europea si attivava in via diretta aprendo una procedura di infrazione a carico del Regno dei Paesi Bassi perché il bando, così come strutturato, avrebbe violato la normativa europea sui contratti pubblici e i suoi principi. In generale, semplificando necessariamente, si poneva alla Corte di Giustizia la questione di determinare se e soprattutto in quali termini gli obiettivi sociali e ambientali potevano essere integrati nella procedura di selezione del contraente in parola. La risposta della Corte è positiva sul sé, ma in quanto alle modalità devono ricorrere alcune rigorose condizioni. Innanzitutto sulla pubblica amministrazione grava l'obbligo assoluto di indicare chiaramente le specifiche tecniche richieste. Quanto al possesso di marchi privati, questi valgono a creare la presunzione del rispetto di determinate caratteristiche in capo ai possessori. Ciò però non esone la pubblica amministrazione dal dovere, che è un dovere rigoroso e assoluto, di accertare con qualsiasi mezzo il possesso delle medesime caratteristiche in capo agli altri operatori economici coinvolti. In aggiunta, la Corte ha osservato che i criteri di aggiudicazione e le condizioni di esecuzione del contratto, così come integrati in senso ambientale e sociale, devono essere rigorosamente collegati con l'oggetto della singola fornitura e non devono imporre all'impresa coinvolta, alle imprese coinvolte, una politica generale di azione. Su questo punto vorrei essere molto chiaro, la pubblica amministrazione può richiedere la compatibilità sociale e ambientale della singola fornitura, ma non richiedere la compatibilità sociale e ambientale dell'azienda e delle sue policies interne. Inoltre, e qui la Corte è molto chiara, i criteri di aggiudicazione devono rispettare i principi di certezza, parità, non discriminazione e trasparenza, perché in caso contrario risulterebbe violato il valore fondamentale della concorrenza. Per chi fosse interessato a ragionamenti simili in chiavi di diritto interno, vi segnalo Consiglio di Stato 3.900 del 2009 e parere dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici prima che diventasse ANAC del 23 gennaio del 2013. La sentenza della Corte è stata poi in qualche modo codificata all'articolo 67 che precisa come i criteri di aggiudicazione e a maggior ragione quelli integrati in senso socioambientale non danno carta bianca alla pubblica amministrazione, quindi non conferiscono un'eccessiva discrezionalità, devono garantire una concorrenza effettiva e non distorta e soprattutto devono mantenere un'adeguata connessione con l'oggetto del contratto, ovvero in altri termini con il processo specifico di produzione o con una fase successiva del costo di ciclo di vita. Una notazione finale su questa prima parte per quanto riguarda la sfera locale. Nel novembre scorso, novembre 2014, il tavolo provinciale sugli appalti ha approvato alcune clausole sociali di contenuto simile a quelle che vi ho elencato prima da inserire nei capitolati di gara ai sensi dell'articolo 69 del codice dei contratti. In seguito la giunta provinciale ha approvato il capitolato tipo che include tale tipologia di clausole. Mi pare una novità da cogliere con favore e per il contenuto e per la rapidità con cui si pone in linea rispetto agli indirizzi del legislatore europeo. Passando alla seconda parte mi concentrerò più sugli aspetti e sulla valorizzazione di carattere sociale. In particolare vorrei partire dall'articolo 20 che trovo un corrispondente nell'articolo 24 della direttiva sulle concessioni, dall'articolo 20 della direttiva 24 2014 denominato appalti riservati. Ai sensi dell'articolo 20 è possibile prevedere una riserva di diritto di partecipazione alle procedure a favore di laboratori protetti e operatori economici che si propongano di integrare sotto il profilo sociale e sotto il profilo professionale lavoratori disabili e lavoratori svantaggiati. Di altresì la possibilità di riservare l'esecuzione degli appalti nell'ambito di programmi di lavoro protetti. Ciò a condizione che gli operatori economici, i laboratori protetti o i programmi di lavoro protetti siano composti per almeno il 30% da lavoratori svantaggiati o disabili. Il senso di questa disposizione è spiegato al considerando 36 della direttiva che individua l'occupazione e il lavoro come fattori primari di integrazione sociale e garanzia di pari opportunità. In particolare si menziona il ruolo dei laboratori protetti e dell'impresa sociale ai fini di garanzia della coesione sociale. È molto importante, mi sembra significativo, il riferimento all'impresa sociale che ancorché non rimpreso nella parte cogente costituisce una sorta di sbocco di un dibattito ampissimo che si è avuto a livello europeo negli ultimi 5 anni sul ruolo dell'economia sociale. Questo dibattito ha portato anche ad un'apposita comunicazione della Commissione sul punto. Ora, la misura di quei articoli 20 era già contenuta anche nella direttiva 18 del 2004, più precisamente all'articolo 19. Tuttavia, la quota di riserva, la misura premiale, risulta oggi ampliata sotto il profilo soggettivo e sotto il profilo oggettivo rispetto a prima, come ha notato le autorità di vigilanza e ancora nel 2013. In particolare, accedono oggi alla misura non i soli lavoratori protetti, ma anche le imprese sociali, quindi con un allargamento rispetto al passato. In tali operatori economici possono inoltre essere oggi impiegati non i soli disabili, ma anche le persone svantaggiate. Infine, e questa mi pare la novità più importante, la percentuale di lavoratori svantaggiati o disabili passa dalla maggioranza al 30%. Il passaggio dalla maggioranza al 30% segna in qualche modo una convergenza rispetto al quadro vigente a livello di diritto nazionale, visto che la legge 381 del 1991 sulle imprese sociali prevede la medesima soglia. A questo proposito, la Commissione, durante i lavori preparatori, ha sottolineato che il passaggio dalla soglia della maggioranza dei lavoratori disabili o svantaggiati al 30% permette un miglior bilanciamento tra le finalità sociali di impresa e la logica economica che comunque deve animare qualsiasi operatore economico. Vi sono invece delle divergenze per quanto riguarda l'approccio del legislatore europeo e quello nazionale in merito al tema dei lavoratori disabili o svantaggiati. Il diritto europeo fa infatti riferimento a una concezione per così dire sociologica che include in tali categorie anche coloro che per esempio hanno perso il lavoro a seguito della crisi finanziaria. Per contro il diritto interno rimane ancorato a una concezione per così dire clinica che include in questa categoria solo i casi più gravi di inabilità al lavoro. Di limitata abilità al lavoro. Ecco per alcuni l'articolo 20 che vi ho esposto dovrebbe essere interpretato come una sorta di esenzione dalla disciplina sugli appalti per le imprese del terzo settore e comunque per gli operatori economici che svolgono funzione di reinserimento lavorativo. In realtà mi pare che la lettura da dare sia più articolata e almeno in parte opposta. L'articolo 20 a mio parere sembra infatti attrarre a pieno titolo nell'ambito della disciplina sugli appalti anche i soggetti no profit e del terzo settore che nella prassi sono i primi destinatari degli appalti riservati. Ciò del resto è in linea con la giurisprudenza ben nota della Corte di Giustizia per cui sono assoggettati alla disciplina sugli appalti, sugli utili di Stato e sulla concorrenza tutti gli operatori che scambiano beni e servizi su un dato mercato dietro l'immunerazione e ciò a prescindere dal fatto che siano profit o no profit e a prescindere dalla loro forma giuridica. Ai fini applicativi credo quindi che si restringe ai sensi dell'articolo 20 la concorrenza a taluni operatori che vengono ritenuti meritevoli ma fra di essi dovrà esservi piena concorrenzialità e rispetto dei tradizionali principi sugli appalti principi che quindi rimangono il paradigma analitico di base. E del resto la medesima lettura mi pare che sia stata abbracciata anche dal legislatore nazionale con la legge di stabilità 2015. Dalle leggi è infatti previsto che il convenzionamento fra enti locali e cooperative sociali di tipo B di cui la legge 381 del 91 debba essere anticipato necessariamente da un confronto concorrenziale che garantisca il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza. Si esclude quindi, che era una diatriba abbastanza radicata in passato, la possibilità di affidamenti diretti come da precedente interpretazione dell'autorità di vigilanza. In conclusione, sul punto dovrei essere molto chiaro, la misura premiale di cui all'articolo 20 non si basa su criteri soggettivi o sulla forma di impresa ma su indici di stretta oggettività che sono legati all'attività delle imprese coinvolte, alle finalità che queste perseguono e alla loro struttura aziendale. Per un ragionamento analogo, cioè di deroga in casi particolari rispetto a principi consolidati nel campo degli aiuti di Stato, segnalo la sentenza Paint Graphos della Corte di Giustizia del 2011 che almeno a mio avviso è una delle più interessanti rese nell'ultimo quinquennio a livello europeo. Le finalità sociali, e qui vado alla terza parte che mi porterà poi rapidamente alla conclusione, sono valorizzate anche nella predisposizione oggi di regole specifiche per il settore dei servizi sociali che prima erano inseriti fra i servizi esclusi e oggi invece sono disciplinati dal titolo terzo della direttiva che ha rubricato particolari regimi di appalto. Per tali servizi l'articolo 4 prevede oggi una soglia comunitaria innalzata, anche in modo sensibile perché è pari a 750 mila euro, con presunzione di nessuna rilevanza trasfrontaliera al di sotto di tale soglia. Per un verso quindi il settore dei servizi sociali è considerato di rilievo esclusivamente locale. Per altro verso si ritiene che il settore sia molto legato alle tradizioni legali ed organizzative dei singoli Stati membri, soprattutto con riferimento al delicato ambito dei servizi alla persona. Coerentemente, anche sopra soglia, il legislatore europeo lascia molta libertà procedurale agli Stati. Questo a condizione che le stazioni appaltanti rispettino i principi di trasparenza, concorrenzialità e parità di trattamento e all'ulteriore condizione che le legislazioni interne rispettino la specificità dei singoli servizi che vengono in rilievo. Il ragionamento quindi si sviluppa in chiave di sussidiarietà verticale, resta quindi però da vedere come l'ambito di manovra lasciato agli Stati sarà declinato a livello di ordinamenti nazionali. È interessante osservare, anche rispetto al settore dei servizi sociali, l'esistenza di una misura premiale che si sostanzia in un appalto riservato, in quote di appalto riservato. Tali quote sono accessibili a particolari tipi di impresa, in particolare ad imprese che perseguono una missione di servizio pubblico riconducibile alla prestazione resa, che reinvestano i profitti per perseguire i propri scopi di impresa e che siano dotate di una struttura organizzativa che preveda l'azionariato di dipendenti o strumenti di partecipazione alla gestione aziendale. Questa disposizione nasce nella parte finale della procedura legislativa ordinaria su pressione del governo britannico, del governo del Regno Unito. Il Regno Unito infatti ha perseguito negli anni scorsi tagli alla spesa pubblica inducendo i dipendenti delle amministrazioni a costituire imprese mutualistiche cui sono poi appaltati i servizi relativi alle medesime funzioni che i dipendenti esercitavano nell'ambito dell'organizzazione amministrativa. Lo strumento è stato utilizzato molto in ambito sanitario. Credo che sarà interessante vedere come tale disposizione sarà recepita nell'ordinamento nazionale. Sta infatti il dubbio se si farà riferimento alla già copiosa legislazione interna sulle imprese sociali o seppure si preferirà un recepimento letterale della disposizione europea anche se nel nostro ordinamento non esistono imprese, operatori economici paragonabili alle public service mutual che sono state implementate all'interno dell'ordinamento britannico. Molto rapidamente sulle conclusioni per vedere se ci si muove in un quadro di continuità o di innovazione rispetto al passato. Per quanto riguarda nuova impostazione finalistica con l'inclusione di obiettivi sociali e ambientali mi pare che il quadro sia innovato rispetto al passato doveppure vi erano accenni ai medesimi valori e principi. La sensazione però è che le nuove direttive propongano un vero e proprio salto di qualità. Tuttavia, come abbiamo detto, i profili innovativi dovranno essere riconciliati con i principi tradizionali tramite un'attenta strutturazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto e delle condizioni di esecuzione del contratto. Passando alle quote riservate, lo strumento, come dicevo, è ben noto ed era già contenuto nell'articolo 19 della direttiva 18 del 2004. Tuttavia, nei contenuti, lo stesso è stato innovato ed adattato rispetto alla legislazione precedente, rendendolo maggiormente fruibile e più flessibile. Tuttavia, la valutazione finale complessiva da dare è di un istituto che si pone in continuità con la giurisprudenza della Corte di Giustizia sull'applicabilità della disciplina dei contratti pubblici ai soggetti no profit e che svolgono l'inserimento sociale. Tale lettura sembra essere avvalorata anche dai più recenti sviluppi di diritto interno. Quello che deve essere osservato è che entrambi gli istituti, quindi la valorizzazione di obiettivi socioambientali e le quote riservate, trovano oggi una solida base giuridica nel Trattato sull'Unione Europea che fa riferimento al raggiungimento di un'economia sociale di mercato tra i fini tendenziali dell'ordinamento europeo. Credo che sia significativo al proposito che l'economia sociale di mercato sostituisce tra gli obiettivi la concorrenza che è stata invece, tra virgolette, confinata al protocollo 26 al Trattato. Quindi il nuovo articolo 2 sull'economia sociale di mercato credo sia stato il convitato di pietra dell'intero ragionamento che vi ho proposto fino adesso. Quanto alla parte sui servizi sociali, questa è nuova rispetto al passato e parte dalla constatazione della scarsa rilevanza trasfrontaliera di tali servizi. A proposito, è molto significativa e quasi emblematica la soglia comunitaria innalzata rispetto ai servizi ordinari. Come vi dicevo, profili di incertezza ma anche di interesse residuano per quanto riguarderà la fase di recepimento. Ma questa è un'altra storia e spetterà il Governo, diciamo, nell'esercizio della delega che gli è stata resa dal Parlamento concentrarsi su questi punti. Ciò che è certo è che credo ci sarà occasione di riparlarne anche in passato e quindi rinvio a un prossimo incontro. Grazie per l'attenzione. Ok, adesso il secondo redattore è il dottor Tenka del Tarlombardia, sezione di Brescia che si concentrerà sul tema delle concessioni. Come ho detto, la disciplina è del tutto nuova e quindi penso che avremo molte cose interessanti da sentire. Grazie e salve a tutti. Io dividerò il mio intervento in due parti perché vorrei partire, insomma ho pensato di partire sul discorso delle concessioni dall'esistente e in particolare dalla problematica attuale e pratica degli operatori che vogliono comprendere quali siano le norme del codice dei contratti che si estendono al campo delle concessioni. Quindi la prima parte sarà un po' sul come funziona ora cioè come è l'attuale ordinamento nell'interpretazione e quindi nelle pronunce. Darò un po' di pillole di giurisprudenza. La seconda parte mi concentrerò direttamente sulla nuova direttiva. Allora, è già stato accennato dal dottor Cornella il fatto che le concessioni di servizi nell'attuale ordinamento non hanno una disciplina diffusa nel diritto comunitario e per quanto riguarda il codice degli appalti si fa riferimento all'articolo 30,3 e quindi principi del trattato e in particolare trasparenza, adeguata pubblicità non discriminazione, parità di trattamento mutuo riconoscimento e proporzionalità. L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato 13-2013 ha nel solco di una giurisprudenza abbastanza omogenea sostenuto che le norme del codice degli appalti non sono automaticamente estensibili alle concessioni e in particolare alle concessioni di servizi salvo che costituiscano espressione diretta di questi principi che ho elencato prima. Un discorso di carattere generale riguarda l'autovincolo cioè è pacifico anche che sono applicabili alle concessioni quelle disposizioni del codice dei contratti che sono state espressamente richiamate dall'amministrazione aggiudicatrice nella legge di gara quindi se abbiamo richiamo nella normativa di gara e quindi un autovincolo queste ovviamente poi devono essere osservate dall'amministrazione Consiglio di Stato sezione quinta primo dicembre 2014 numero 5915 Per quanto riguarda le singole questioni partirei dalla disciplina dell'articolo 84 commi 4 e 10 del codice dei contratti sulla formazione della commissione giudicatrice il problema è quello della gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto alla quale la giurisprudenza è pervenuta alla conclusione vedremo in particolare ad un'anza plenaria numero 13 del 2013 che sono applicabili anche in assenza di un espresso richiamo nel bando l'articolo 84 punto comma 4 che riguarda l'incompatibilità dei componenti diversi dal presidente della commissione e il comma 10 relativo ai tempi di nomina della commissione la prima regola tende alla separazione tra la preparazione della documentazione e la fase di valutazione delle offerte quindi la distinzione tra i soggetti che hanno prima definito regole della procedura da quelli che invece devono scrutinare le offerte e le proposte pervenute la seconda regola invece impone la posteriorità della nomina della commissione rispetto al termine di presentazione delle offerte questo costituisce si è detto un corollario dei principi di trasparenza e imparzialità perché si evita che il contenuto delle offerte sia influenzato dalle preferenze che potrebbero essere attribuite ai commissari già nominati ovvero da loro suggerimenti o da loro contatti comunque presi con imprese amiche ecco che allora la risposta del consiglio di stato appunto della donanza penaria 13 2013 è nel senso dell'applicabilità diretta di queste disposizioni in sede di affidamento di concessioni di servizi in quanto espressive dei principi di trasparenza e di parità di trattamento per un'applicazione cito anche il nostro tribunale TAR Lombardia-Brescia sezione seconda 4 novembre 2014 numero 1154 l'applicazione alle concessioni di servizi appare giustificata dal fatto che queste due disposizioni appunto comma 4 e comma 10 hanno la loro razio logica non presentano svantaggi e non costituiscono oneri amministrativi e procedurali di particolare gravità sul piano del rispetto delle stesse la pronuncia poi si rifà a precedenti orientamenti del consiglio di stato e in particolare della donanza plenaria possiamo anche dare conto di antecedenti di segno opposto in particolare prima della pronuncia della donanza plenaria al consiglio di stato 24 marzo 2011 numero 1784 aveva detto che la disposizione la violazione in particolare del comma 10 ha carattere invalidante solo se la nomina anteriore alla scadenza del termine sia in concreto suscettibile di incidere sulla indipendenza dei commissari e qui si onera l'impresa la parte ricorrente di dimostrare di aver subito un pregiudizio in concreto dalla nomina della commissione anteriormente al termine di presentazione delle offerte o comunque la onera di dedurre la presenza che la presenza appunto della commissione nel momento della ricezione delle offerte abbia cagionato una qualche influenza sui componenti della commissione stessa da ultimo 84,4 Tarlecce sezione terza 7 gennaio 2015 numero 32 dice la previsione di principio non integra di per sale incompatibilità a far parte della commissione giudicatrice di tutti i soggetti che in quanto dipendenti della stazione appaltante siano in qualche misura coinvolti per obbligo di ufficio nello specifico lavoro servizio fornitura che è oggetto dell'appalto né tantomeno la predetta incompatibilità può desumersi dall'espletamento di incarichi amministrativi o tecnici genericamente riferiti ad altri appalti ecco questa pronuncia diciamo come dire riguarda sfumature diverse insomma non affronta direttamente il tema del funzionario che si è dedicato diciamo direttamente a quell'appalto però si pone il problema in particolare dei comuni minori quando dice che secondo una corretta interpretazione della disposizione occorre una corretta interpretazione della disposizione perché diversamente opinandone discennerebbe l'irragionevole impossibilità di espletamento di gare nelle stazioni appaltante di piccole dimensioni e il contrasto con le regole che impongono di valutare previamente l'esistenza di professionalità nella stessa pubblica amministrazione e in particolare quindi si fa riferimento all'articolo 84,8 seconda disposizione l'84,2 il numero dei membri della commissione la regola è quella della commissione di gara che deve la regola impone alla commissione di gara di operare con un numero dispari di componenti e un numero non superiore a 5 qui si è detto che questo non è espressione di un principio generale immanente nell'ordinamento tale da determinare l'illegittimità nella costituzione di un collegio avente un numero pari di componenti e qui consiglio di stato sezione sesta 5 dicembre 2013 numero 5805 nel riformare la sentenza di primo grado ha affermato che i principi di quell'articolo 30,3 non risultano violati perché la lettera di invito aveva comunque delineato un procedimento rispettoso dei canoni fondamentali delle procedure pubbliche che per l'affidamento delle concessioni di servizi non deve necessariamente corrispondere a precisi e formali parametri richiesti dalla disciplina comunitaria interna quindi la disciplina sulle appalti dei lavori questo ha sottolineato il consulio di stato poi è rafforzato da una considerazione di carattere sostanziale e cioè che sette membri erano favorevoli all'assegnazione alla vincitrice due contrari e un astenuto quindi la composizione dell'organo giudicatore non ha avuto neppure nel concreto esito un effetto distorsivo del risultato altro punto che in realtà oggi perde di significato perché questo obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione e quote di esecuzione previsto dall'articolo 37,13 del decreto legislativo 163-2006 è stato abrogato con il DL 47-2014 però pronunciandosi su vicende precedenti la giurisprudenza in particolare la donanza plenaria 7-2014 del Consiglio di Stato ha stabilito che non esprime un principio generale desumibile dal trattato e quindi non trova applicazione o una selezione per la scelta del concessionario di un servizio pubblico locale altra questione riguarda la disciplina dell'avvalimento articolo 49 del decreto legislativo 163 qui abbiamo giurisprudenza oscillante nel senso che il Tar Molise 23 dicembre 2011 numero 990 ha stabilito che viola i principi di non discriminazione e di proporzionalità la clausola del bando per l'affidamento in una concessione che non ammette a partecipare alla gara le associazioni di più soggetti qui c'era anche il problema delleati e dall'altra in cui esclude l'istituto dell'avvalimento il consiglio di stato sezione quinta 2 maggio 2013 numero 2385 invece si è pronunciato in senso opposto e in particolare fa riferimento ai principi che hanno la finalità di consentire la massima partecipazione alle gare d'appalto e ai principi di non discriminazione e proporzionalità però ha detto questi ultimi due principi non discriminazione e proporzionalità tengono ai requisiti di partecipazione che devono essere coerenti con l'oggetto del contratto e non devono produrre una restrizione alla partecipazione eccedente agli scopi della stazione appaltante però una volta diciamo che sia nell'ambito dell'individuazione dei requisiti di partecipazione solo nell'ambito appunto di questi requisiti va apprezzato e rispetto dei principi appunto di questi canoni mentre l'avvalimento comporta una scelta discrezionale ulteriore dell'amministrazione che non è imposta dalla disposizione e cioè di consentire la partecipazione a soggetti che singolarmente non sono in possesso dei requisiti il consiglio di stato fa riferimento anche alla caratteristica fondamentale dell'istituto concessorio cioè della sostituzione del privato concessionario all'amministrazione e quindi dice conclude dicendo che se la spinta comunitaria all'apertura e confronto competitivo di attività di pertinenza di quest'ultima suscettibile di sfruttamento economico ha condotto all'assimilazione dell'istituto concessorio alle regole dell'evidenza pubblica propria degli appalti la limitazione del travaso delle regole fissata proprio dall'articolo 30,3 si spiega con la necessità di mantenere in capo l'amministrazione un certo margine di manovra anche in sede di definizione delle caratteristiche del potenziale concessionario questa pronuncia è stata richiamata più di recente da Tarlazio Roma sezione terza ter 17 settembre 2014 numero 9783 adesso io corro un po' sui riferimenti ma poi metterò a disposizione per chi fosse interessato la relazione disciplina dei requisiti di carattere generale articolo 38 del decreto legislativo 163 2006 e in particolare facciamo riferimento ai requisiti morali di partecipazione alle gare d'appalto ecco questo rappresenta un principio di carattere generale che trova applicazione anche nelle gare dirette all'affidamento delle concessioni di servizi principio di ordine pubblico che soddisfa l'imprescindibile esigenza che il soggetto che contrae con l'amministrazione sia affidabile e qui non ci sono dubbi da ultimo cito consiglio di stato sezione sesta 2 febbraio 2015 numero 462 disciplina è a questo proposito poi io faccio anche presente che lo stesso articolo 38 comma primo lettera del decreto legislativo 163 a proposito dei requisiti di carattere generale fa riferimento anche alle concessioni e non solo agli appalti di lavori forniture e servizi quindi abbiamo anche il dato testuale che asseconda questa linea interpretativa la cauzione provvisoria la cauzione definitiva allora in materia è stato si è sottolineato che le concessioni di servizi non prevedono automaticamente appunto l'applicazione della disposizione del codice e quindi neanche degli articoli 75 e 113 quindi la prescrizione che riguarda la cauzione provvisoria la cauzione definitiva non vale indipendentemente dall'inserzione della stessa nel bando di gara e quindi non si estende secondo il principio di etero integrazione secondo consiglio di stato sezione quinta 13 luglio 2010 numero 4510 in considerazione della diversità di funzione del contratto e della concessione appunto il terzo comma dell'articolo 30 ha limitato la fase di scelta del concessionario rispetto di principi generali dai quali non si desume automaticamente l'applicazione anche di queste norme del codice degli appalti stesso discorso riguarda la disciplina dell'anomalia delle offerte articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 163 è stato detto quindi che la disciplina non si estenda alle concessioni di servizi ma rientra nella discrezionalità della stazione appaltante secondo il meccanismo già visto dell'autovincolo quindi se la legge specialis non abbia fatto un richiamo alla procedura di valutazione dell'anomalia dell'offerta gli articoli 86 e 88 del codice dei contratti non possono trovare diretta applicazione e la stazione appaltante non obbligo di procedere all'accertamento qui è stato sottolineato che la verifica dell'anomalia dell'offerta è finalizzata la corretta esecuzione del contratto è una cautela preventiva della stazione appaltante che vuole saggiare la sostenibilità economica dell'offerta anche nell'interesse pubblico e quindi emerge in un certo qual modo una natura discrezionale delle valutazioni che sottostanno alla decisione di sottoporre a verifica di anomalia le offerte presentate in sede di gara il consiglio di stato sezione quinta primo dicembre 2014 numero 5915 e sottolinea che appunto in nessuno dei principi generali può essere fatto rientrare l'articolo di cui l'articolo 30 appunto principi del trattato e principi sulle concessioni può essere fatto rientrare il citato articolo 86 perché contiene regole puntuali e offre anche uno spunto testuale dall'articolo 86 comma 3 che rimette alle stesse stazioni appaltanti la verifica di congruità al di fuori dei casi tassativi previsti nei precedenti commi 1 e 2 che riguardano appalte giudicati col criterio del massimo ribasso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa e prevedono dei tetti diciamo dei sistemi automatici di identificazione dei casi in cui è obbligatorio è fatto obbligo di procedere alla verifica di anomalia termini di presentazione delle offerte la disciplina generale contenuta nell'articolo 70 del decreto legislativo 163 non è applicabile alle concessioni di servizi tar sicilia catania sezione terza 14 marzo 2014 numero 825 qui mi limito al cenno infine disciplina relativa allo standstill articolo 11 comma 10 del decreto legislativo 163 2006 cioè il termine parliamo del termine dilatorio previsto per la stipula del contratto in esito alla evidenza pubblica qui si è detto si applica anche alle concessioni di servizi in quanto l'articolo 11 comma 10 del codice trova ingresso per tutte le procedure di affidamento dei contratti pubblici tenuto conto di quanto dispone l'articolo 3 comma 36 che nelle definizioni parla di procedure di affidamento e nell'affidamento si comprende l'affidamento di lavori servizi o forniture mediante appalto ma anche mediante concessione la scelta del concessionario diciamo deve avvenire anche appunto in materia di concessione nel rispetto dei principi di libera concorrenza parità di trattamento e non discriminazione e quindi da questi anche da questi principi discende l'obbligo di osservare lo standstill di cui l'articolo 11 del codice dei contratti TAR Lombardia Brescia sezione seconda 10 aprile 2012 numero 618 ecco ho voluto partire da questa premessa per dire anche dare atto e dare conto delle delle questioni che si pongono quotidianamente agli operatori e noi diciamo giudici tribunali circa l'applicazione al materia delle concessioni di regole che sono stabilite nel codice dei contratti la nuova direttiva in materia di concessione cioè la numero 23 del 26 febbraio 2014 finalmente offre introduce delle regole per la prima volta appunto sui contratti di concessione è già stato sottolineato da chi mi ha preceduto l'obiettivo che è duplice quindi non è solo quello di salvaguardare rafforzare il canone comunitario della concorrenza ma anche quello di rendere efficiente la gestione delle risorse pubbliche che è comune a queste direttive ebbene una prima un primo cenno lo vorrei fare alla distinzione tra appalto e concessione secondo la giurisprudenza attuale cioè in che modo si distingue un appalto di servizi da una concessione di servizi il giudice europeo ha sostenuto ma anche la giurisprudenza nazionale che la differenza tra un appalto di servizi e una concessione di servizi risiede nel corrispettivo della fornitura di servizi cioè l'appalto abbiamo l'appalto quando il corrispettivo è pagato direttamente dall'amministrazione aggiudicatrice al prestatore di servizi mentre nella concessione le modalità di remunerazione patuite consistono nel diritto del prestatore di sfruttare la prestazione e implicano che quest'ultimo assume il rischio legato alla gestione il mancato trasferimento al prestatore di servizi dei rischi legati alla prestazione indica che l'operazione costituisce un semplice appalto quindi criterio distintivo odierno è rappresentato sia dalla remunerazione che dal rischio di gestione se l'ente affidante corrisponde all'affidatario una remunerazione semplicemente una remunerazione sia in presenza dell'appalto se l'affidatario assume anche il rischio della gestione e ottiene un corrispettivo dell'utente siamo in presenza di una concessione tutto questo è efficacemente riepilogato in una sentenza mi pare in una sentenza del Tar Lombardia-Brescia sezione seconda 4 dicembre 2014 1328 che stabilisce come tratto distintivo l'assunzione del rischio a carico del concessionario per la gestione del servizio il fatto che il corrispettivo non sia versato dall'amministrazione come nell'appalto dei lavori servizi e forniture che anzi normalmente percepisce un canone dal concessionario e nella diversità del rapporto che nella concessione di servizi è trilaterale cioè coinvolge amministrazione gestore ed utenti mentre nell'appalto la sola vi è un solo binomio solo rapporto bilaterale tra stazione appaltante e appaltatore direttiva concessioni gli stati membri hanno diciamo accolto una disciplina quella poi approvata in via definitiva dal consiglio una disciplina abbastanza leggera e applicabile oltre una soglia elevata piuttosto elevata e cioè i contratti di valore pari o superiore a 5.186.000 euro articolo 8 comma primo della direttiva c'è però da specificare subito che per valutare correttamente la consistenza economica della concessione occorre prendere a riferimento il fatturato stimato dall'amministrazione a giudicatrice che produrrà il contratto per tutta la sua vita giuridica quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto del contratto stesso compresi eventuali altri lavori forniture o servizi accessori quindi l'intero diciamo pacchetto quindi se si tratta anche di un di una concessione di lavori pubblici o comunque una concessione di lavori e servizi occorre prendere in considerazione il valore anche della parte relativa ai servizi a livello di mercato il sistema di calcolo dovrebbe incrementare il numero di procedimenti per l'affidamento di contratti di concessione da pubblicare sulla gazzetta ufficiale delle comunità europee quindi da rendere obbligatoria la procedura fissata da questa direttiva la direttiva 23 ribadisce come anche le direttive in materia poi di appalti e l'ulteriore direttiva sui servizi speciali la libertà di scelta cioè l'amministrazione mantiene e ciascuno stato membro in particolare poi nella attuazione della direttiva potrà mantenere intatta la libertà di organizzazione quindi in altre parole a fronte di un servizio la pubblica amministrazione non è tenuta alla esternalizzazione ma può scegliere se appunto adottare questa scelta di outsourcing oppure se gestirla in proprio principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche articolo 2 della direttiva il diritto europeo quindi dei contratti entra in gioco quando un paese membro abbia deciso per l'outsourcing chiaramente allora il principio è già come dire ha già trovato traduzione nel nostro ordinamento qui rapidamente segnalo corte costituzionale 50 2013 che richiama la corte di giustizia dell'unione europea che ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli stati membri autoprodurre beni, servizi o lavori mediante ricorso a soggetti che siano legati a quest'ultimo da una relazione organica affidamento in aus oppure individuare operatori sul mercato anche il legislatore dopo la sentenza della corte costituzionale 199 2012 che risolvendo alcune questioni interpretativi questioni interpretative ha stabilito che il legislatore nazionale deve considerare le regole concorrenziali minime comunitarie in materia di affidamento di servizi pubblici dicevo anche l'ordinamento nazionale non ha più indicato un modello preferibile in aus o espansione della concorrenza nel mercato ma ha rinviato la scelta concreta del singolo ente affidante qui farei una digressione sull'inaus in particolare che è trattato anche nella direttiva concessioni in aus o autoprestazione rispetto all'attuale diciamo panorama risultante anche dalle pronunce della corte di giustizia l'inaus regolato dalla direttiva dall'articolo 17 della direttiva concessione specifica che il requisito del controllo analogo richiede un'influenza dominante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più significative della persona giuridica controllata stabilisce poi che questo controllo può essere esercitato da una persona giuridica diversa a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione giudicatrice questo è il punto primo qui direi c'è un recepimento di principi che la corte di giustizia ha elaborato nel corso del tempo secondo qui parzialmente innovativo l'80% delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essi affidati dall'amministrazione a giudicatrice o dalle amministrazioni qui c'è una riduzione anche rispetto alla proposta della commissione che prevedeva un limite minimo del 90% la direttiva l'ha ridotto all'80% oltre l'80% quindi la giudicataria potrà avere una vocazione di mercato poco al di sotto del 20% terzo elemento è che questa è una novità riguarda la possibilità di ingresso del capitale privato viene ristabilita la regola del divieto di partecipazione di capitali privati diretti però con un'eccezione di forme di partecipazione di capitali che in realtà sono assentiti che non comportano controllo o potere di veto prescritte dalle disposizioni legislative nazionali che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata questo si pone diciamo una novità un'apertura che è in contrasto con la giurisprudenza costante dell'Unione Europea tradizionale anche recente che a San Citto ha più riprese il divieto di partecipazioni private c'è poi il discorso della possibilità di controllo analogo esercitato dall'amministrazione giudicatrice congiuntamente con altre amministrazioni anche qui nel solco mi pare della giurisprudenza della Corte di Giustizia più recente cosa intendiamo per concessione allora la definizione di concessione prima come è stato detto sino ad ora è solo la concessione di lavori predisciplinata dalla direttiva e poi dal diritto nazionale quella di servizi unicamente appunto principi del trattato e articolo 30 vi sono caratteristiche comuni dei contratti di concessione e quindi la disciplina di affidamento oggi è unificata i contratti differiscono principalmente per il fatto che nella concessione di lavori l'aspetto realizzativo costituisce l'oggetto principale cioè l'importanza che i lavori assumono nell'oggetto del contratto mi soffermerei sul connotato fondamentale della concessione articolo 5 la giudicazione di una concessione di lavoro di servizi comporta il trasferimento al concessionario di un rischio operativo legato alla gestione dei lavori o dei servizi comprendente un rischio sul lato della domanda sul lato dell'offerta o su entrambi allora intanto si parla di rischio operativo e ci specifica la direttiva che questo sia quando in condizioni operative normali non è garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione in altre parole l'operatore economico è esposto realmente alle fluttuazioni di mercato in questo modo si vuole anche evitare la prassi di inserire condizioni che possano surrettiziamente porre a carico delle amministrazioni il rischio caratteristico della concessione abbiamo parlato poi di un duplice rischio il rischio lato domanda e il rischio lato offerta allora il rischio di domanda dipende dalla variabilità della richiesta del servizio erogato dal concessionario agli utenti che pagano una tariffa quindi è chiaro qui è abbastanza diciamo intuitivo che il rischio consiste nel fatto che la fruizione di quel servizio possa avere un calo per l'insorgere nel mercato di un'offerta competitiva di altri operatori quindi è chiaro che chi gestisce ad esempio un centro natatorio e ritrae dagli utenti da chi frequenta la piscina o chi frequenta comunque il centro il rischio è legato al fatto che la gente frequenti di meno il centro e quindi vengano ottenuti minori ricavi dalla gestione di questa concessione invece il rischio sul lato offerta riguarda il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda alla domanda qui è il considerando numero 20 della direttiva in buona sostanza se la capacità dell'offerta del concessionario stabilita contrattualmente venga meno per qualsiasi ragione si producono conseguenze afflittive di ordine economico che potenzialmente valgono ad intaccare gli investimenti e i costi di gestione quindi qui deve essere strutturato un sistema di penali che decurta il canone versato dall'APA al concessionario ogni qual volta venga rilevato il mancato soddisfacimento di standard di servizi predeterminati in termini di volume o di qualità quindi qui non abbiamo in realtà un rapporto trilaterale abbiamo visto nella giurisprudenza insomma la distinzione tra concessioni e appalti era tre soggetti nelle concessioni due degli appalti qui abbiamo sempre due soggetti abbiamo addirittura anche un'amministrazione che paga un corrispettivo ma qui il rischio viene assunto nel lato dell'offerta standard qualitativi e quindi rischia nel momento in cui come dire cade su questi standard e quindi subisce decurtazioni applicazioni di penali qui si fa riferimento appunto a una particolare tipologia di concessioni in particolare si parla anche di rischio di disponibilità legato alla performance di servizi che il partner privato deve rendere all'amministrazione che si sostanzia nella potenziale decurtazione dei pagamenti pubblici per effetto appunto dell'applicazione di penali qualora gli standard dei servizi non siano soddisfatti ecco che allora quindi diciamo possiamo fare una rettifica una puntualizzazione sulla distinzione tradizionale tra rapporto trilaterale e rapporto bilaterale l'elemento discriminante quindi della concessione è la presenza del rischio operativo in capo al privato o dal lato della domanda oppure dal lato dell'offerta alcune puntualizzazioni poi per quanto riguarda il considerando numero 17 la direttiva non si applica quando non ci siano pagamenti diretti al contraente da parte degli utenti finali o della pubblica amministrazione e la remunerazione si basi esclusivamente su un calcolo tariffario che copre integralmente i costi e gli investimenti del concessionario quindi qui non c'è il rischio del concessionario né con gli utenti né nel rapporto con l'amministrazione non si ha concessione considerando numero 19 qualora la regolamentazione specifica elimini il rischio prevedendo una garanzia a favore del concessionario per il recupero degli investimenti e dei costi sostenuti per l'esecuzione del contratto la durata della concessione altro aspetto rilevante confrontato all'attuale disciplina del codice dei contratti in particolare articolo 143,6 per le concessioni di lavori pubblici concessione a diregola durata non superiore a 30 anni comma 8 per le nuove concessioni di importo superiore al miliardo di euro la durata può essere stabilita fino a 50 anni ora mi limito come dire a citare l'indicazione della durata insomma in concreto cioè 30 50 anni nella direttiva si introduce anzitutto il divieto di concessioni di durata illimitata sia con clausole esplicite di durata illimitata sia con clausole esplicite che la prevedono ma anche attraverso disposizioni di proroga che quindi potrebbero surrettiziamente introdurre come dire appunto concessioni a tempo indeterminato e una durata di massima che sia pure in modo indiretto è stabilita in 5 anni un arco temporale sufficiente a fondare ragionevolmente la previsione del recupero degli investimenti effettuati da parte del concessionario parliamo dell'articolo 18 primo comma prevede appunto durata limitata dalle concessioni secondo comma per le concessioni ultra quinquennali la durata massima non supera il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti effettuati nell'esecuzione del lavoro o dei servizi insieme con un ritorno sul capitale investito tenuto conto degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali specifici ora vi è in linea di massima una possibilità di individuare un termine superiore a 5 anni però a questo punto questo termine deve essere giustificato quindi l'amministrazione deve motivare quindi la necessità che l'equilibrio economico dell'operatore esige appunto una durata minima superiore addirittura il 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 52 considerando sottolinea che le concessioni di durata molto lunga possono dare luogo alla preclusione dell'accesso al mercato stacolando la libera circolazione dei servizi dicevo addirittura si raccomanda di assegnare concessioni di durata più breve anche del periodo necessario a recuperare gli investimenti pur riconoscendo al concessionario un valore residuo finale per mantenere il sinalagma contrattuale questo naturalmente senza eliminare il rischio operativo così da non snaturare l'istituto della concessione scelta del contraente la disciplina della direttiva sulla scelta del contraente è minimale viene prevista come regola principale quella della pubblicazione di un bando di gara salvo eccezioni che sono quelle della procedura negoziata senza pubblicazione di bando e sono previste regole semplificate sui requisiti tecnici l'articolo 36 sulle garanzie procedurali articolo 37 dove è previsto che l'amministrazione possa limitare il numero di candidati o di offerenti a un livello adeguato purché è sufficiente a garantire una concorrenza effettiva e purché ciò avvenga in modo trasparente sulla base di criteri oggettivi quindi limitare il numero dei partecipanti la selezione qualitativa dei candidati qui sulle condizioni di partecipazione si fa richiamo al principio di proporzionalità quando si deve valutare la capacità del concessionario di eseguire la concessione tenendo conto dell'oggetto e dell'obiettivo di assicurare la concorrenza effettiva la direttiva Palti poi sul punto addirittura C sul fatturato minimo va oltre e prevede anche dei tetti in particolare quello del doppio di quello che è oggetto di contratto l'articolo 39 per il termine di presentazione delle offerte e direi innovativamente articolo 41 criteri di aggiudicazione con la possibilità di modificare i criteri di aggiudicazione in corso di procedura questo sembra insomma una novità abbastanza sconvolgente insomma per i principi che ci hanno sempre come dire accompagnato in cede di applicazione pratica se l'amministrazione ve lo leggo perché è l'articolo 41 se l'amministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore riceve un'offerta che propone una soluzione innovativa con un livello straordinario di prestazioni funzionali che non avrebbe potuto essere prevista l'amministrazione può in via eccezionale modificare l'ordine dei criteri di aggiudicazione per tenere conto di tale soluzione innovativa in tal caso l'amministrazione giudicatrice o lente informa tutti gli offerenti in merito alla modifica dell'ordine di importanza e mette un nuovo invito a presentare offerte tenuto conto dei termini minimi stabiliti è chiaro che questa direttiva e poi bisognerà vedere quanto il legislatore nazionale oserà insomma rispetto a queste cose tra l'altro insomma l'articolo 35 parla poi di lotta alla corruzione e di conflitti di interesse quindi ahimè argomenti di stretta attualità e quindi probabilmente anche in questo senso il legislatore sarà in un certo qual modo condizionato quindi io concluderei dicendo che la direttiva concessioni propone degli spunti decisamente innovativi che vedremo poi il legislatore nazionale quale diciamo linea attuativa per quale linea attuativa opterà e se saranno linee più o meno coraggiose direi che comunque trattandosi di una disciplina piuttosto scarna indipendentemente poi dall'attuazione credo che anche in futuro si porrà lo stesso problema del passato e cioè per quanto riguarda gli altri principi introdotti per gli appalti pubblici stabilire quali e in virtù di quale razio razio l'abbiamo già visto e comunque quali di questi sono estensibili saranno estensibili alle concessioni e quindi un problema di interpretativo credo che comunque si porrà anche in futuro grazie 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 al dottor tenca per questo ampio scursus adesso cedo la parola all'avvocato Tita che si concentrerà sugli aspetti di rilievo pratico relativi alle nuove direttive con riferimento sia alla sfera nazionale che alla sfera locale si concentrerà altresì sui problemi di recepimento che mi pare di poter dire si attendono numerosi se è vero come è vero che la legge delega prevede già oggi la possibilità di apportare correttivi al futuro codice sui contratti e sulle concessioni pubbliche entro un anno della sua entrata in vigore prego avvocato grazie buonasera a tutti allora parto con una prima considerazione se c'è l'attenzione o comunque la capacità di poter analizzare un testo è inversamente proporzionale con il numero degli articoli e l'età del soggetto che deve analizzare il testo stesso devo dire che in prospettiva la prossima direttiva sarà di difficile lettura da parte anche del sottoscritto faccio semplicemente la battuta nel 1971 la direttiva all'epoca 71 305 aveva 34 articoli e questi articoli sono rimasti sostanzialmente inalterati fino alla vigilia delle direttive del 2004 quando gli articoli l'ultima quella vigente già sono saliti ad 83 con l'ultima siamo ovviamente ultimamente andati oltre siamo andati ben oltre i 90 e la cosa interessante è che considerando che nell'ambito di una direttiva costituiscono diciamo l'architrave su cui poggia poi anche la norma stessa sono passati da un numero che era più intorno ai 50 nell'ultima direttiva a 138 considerando quindi ormai direi che forse la capacità del nostro legislatore nazionale di indurre comportamenti legislativi anche all'estero sta avendo buon successo posto che a leggere l'ultima direttiva sembra in buona parte di leggere brani del codice dei contratti o qualche determina della nostra ANAC forse non so chi dei due abbia copiato l'altra certamente questo proietterà ulteriormente delle problematiche in termini di recepimento perché è chiaro che le direttive sempre di più vengono a estendere il loro campo di applicazione e soprattutto travalicano dei punti che fino all'altro giorno erano ritenuti invalicabili quali ad esempio la parte di esecuzione del contratto noi abbiamo sempre imparato a pensare che la parte di cui competeva la disciplina a livello comunitario fosse la parte appunto relativa alla fase di progettualità alla fase di individuazione del soggetto che andava poi a contrattualizzare quindi la fase della cosiddetta evidenza pubblica per dirla in termini molto generali lasciando inalterato la gestione del contratto con l'ultima direttiva si comincia ad entrare anche nel merito della gestione del contratto e devo dire con alcuni accenni che per quanto siano molto limitati sono molto significativi il fatto stesso di essere entrati a regolamentare le cosiddette varianti con un regime molto diverso da quello a cui noi siamo abituati nell'ordinamento interno e nella prassi devo dire che sicuramente proietteranno significative problematiche al momento del recepimento il recepimento è vero è collocato al 16 aprile dell'anno prossimo però è altrettanto vero che il percorso che deve essere avviato che è stato avviato in realtà con il disegno di legge delega approvato dal governo nel 29 agosto del 2014 prevede o pregonizza già un percorso che probabilmente difficilmente salvo le accelerazioni che pure siamo abituati a vedere recentemente in grado di essere espresse profuse dal legislatore difficilmente troveranno un esito entro quella data quindi a quel punto ulteriormente noi sappiamo la questione dell'immediata applicazione della direttiva e dell'eventuale precetto che possa calare all'interno dell'ordinamento nazionale dico questo perché è significativo il fatto che in questo disegno di legge delega che pure è molto sintetico proprio consta di una pagina il legislatore ha inteso già mettere mano pensando che nell'occasione del recipimento della direttiva sia opportuno addirittura riscrivere il codice dei contratti il che dà l'idea che l'ambito nel quale si esplicherà l'attività di regolazione sarà veramente amplissimo tenuto conto che già il codice e regolamento ha 616 articoli l'idea di voler addirittura proprio abrogare l'intero codice per sostituirlo col nuovo quindi non c'è un'idea di entrare a rattoppo vuol dire riscriverlo e già questo è chiaramente un elemento di significativa preoccupazione tolgo e chiudo su questa battuta iniziale sui contenuti e programmatici di questo recepimento perché se pensiamo che tra le righe oltre ai soliti annunciati ideali di semplificazione come si possa semplificare sostituendo l'intero codice se la progazione vuol dire sostituirlo con uno più piccolo potrebbe anche andare ma il problema è che non sarà così si inserisce l'inserimento o comunque il ripensamento globale del sistema di qualificazione che nel campo dei contratti di lavori è impegnato sul sistema SOA con sistemi che siano detti come appunto premianti o comunque tali da poter in qualche modo appunto dare una qualificazione ai soggetti che nell'esecuzione si siano ben comportati e da ultimo questo lo dico perché la categoria alla quale insomma appartengo di questo a molto spesso si preoccupa il fatto che il legislatore ha pensato di introdurre ampi sistemi di risoluzione delle controverse in materia di contratti pubblici alternativi ai sistemi giurisdizionali forse quel famoso tentativo di chiudere diciamo definitivamente o in buona parte la giurisdizione amministrativa in materia di contratti un qualche misura se l'è messa posta come obiettivo posto che sistemi alternativi in campo di esecuzione del contratto potevano essere gli accordi bonari che pure già ci sono e che potevano trovare maggiore esplicazione ma nel campo della giudicazione vuol dire recuperare il famoso parere di precontenzioso che ancora oggi è consentito diciamo assumere prima della conferma del provvedimento finale di giudicazione interrogando oggi l'ANAC è di fatto di scarsissimo utilizzo perché evidentemente va in concorrenza con un termine jugulatorio di ricorso che evidentemente rende impossibile impraticabile quel tipo di procedimento ma la cosa più preoccupante è che se è l'alternativo il sistema giurisdizionale magari anche un ampliamento dei meccanismi che in qualche modo rendano alternativo la critica sulle procedure di gara detto questo fino al 16 aprile certamente questa direttiva per norma evidentemente non è applicabile però al suo interno proprio per come congegnata l'intervento su talune norme è destinato a mio avviso anche ad incidere sull'attuale gestione e applicazione della norma comunitaria e del codice dei contratti faccio un esempio perché è un esempio molto importante nella direttiva per quanto riguarda l'avvalimento cui ha fatto cenno anche il dottor Tenka l'articolo 63 della direttiva 24 cerca di da un lato di confermare in pieno la validità dell'avvalimento e debo dire senza restrizione alcuna anzi ampliandone la portata ma come è costruita la norma rischia di essere già una forma interpretativa dell'esistente perché non c'è dubbio che noi sappiamo che sulla norma dell'avvalimento c'è stato un orientamento giurisprudenziale ne ha dato conto lo stesso dottor Tenka non sempre univoco e certamente mal disposto rispetto a questo istituto non parliamo del legislatore che ha più ripresa ha dovuto porre mano alla norma per adeguarsi ai principi comunitari ebbene la nuova articolo introduce delle cose molto interessanti perché ad esempio pone un obiettivo oggettivo e cioè dice innanzitutto l'avvalimento deve essere consentito a 360 gradi ma in relazione agli elementi di cui l'offerente si avvale di altro e ovviamente riferita ad altro operatore il legislatore comunitario nuovo dice si gradua anche la modalità attraverso la quale l'avvalimento che noi sappiamo nell'impostazione codicistica è un contratto deve avere poi dei risvolti e dei riscontri dal punto di vista dei contenuti faccio un esempio lo dice la stessa norma innanzitutto si può ricorrere all'affidamento a terzi nel senso l'ausilio di terzi per giustificare i requisiti di titoli di studio e professionali titoli di studio e professionali quindi superando quella indiguità sulla possibilità di utilizzare un ausiliario per dimostrare ad esempio un certo tipo di iscrizione ad un albo piuttosto pensiamo nell'ambito della gestione ambientale sulla quale anche gli ultimi provvedimenti governativi hanno precisato che l'iscrizione all'albo a smaltitori non è strumento che possa essere diciamo sostenuto da un avvalimento la direttiva va in senso opposto ma perché perché dice però che in questi casi deve essere possibile questo avvalimento a condizione che l'ausiliario sia impegnato nell'esecuzione dell'appalto questo passaggio è un passaggio importantissimo perché oggi noi sappiamo noi sappiamo nel senso che è stata una posizione della VCP prima e dell'ANAC non smentita oggi in virtù della quale in caso di avvalimento si è esclusa la possibilità dell'ausiliario di poter essere immesso nella gestione e nell'esecuzione del contratto salvo che non avvenga attraverso il ricorso al subappalto con il limite del subappalto cioè il famoso 30% questa impostazione sembra totalmente demolita dalla norma comunitaria che addirittura pretende che l'ausiliario esegua la prestazione se il suo apporto è quello di un titolo abilitativo come per dire se ho bisogno dell'impresa che ha l'iscrizione all'albero smaltitori per poter fare l'avvalimento e per fare questo appalto io lo posso fare l'avvalimento ma a condizione che questo soggetto entri con i suoi mezzi e con i suoi titoli e faccia la prestazione su questo argomento visto che a livello oggi c'è solo una norma interpretativa da parte della VCP oggi dell'ANAC sicuramente questa norma ancorché non immediatamente operante è tendenzialmente idonea a necessariamente portare a mio avviso anche una revisione di quell'impostazione un secondo aspetto elevato invece ancora l'avvalimento si è precisato e precisa la norma comunitaria che quando invece l'ausilio è in relazione a elementi di qualificazione attinenti la cifra d'affari o bilanci solo in quel caso potrà essere richiesta la solidarietà altra questione molto importante per cui la solidarietà di carattere operativo finanziario è richiesto solo in questi casi il che non è detto che ci sia negli altri perché ma perché negli altri c'è direttamente l'intervento del soggetto che opera in affiancamento l'ultimo aspetto sull'avvalimento interessante si dice che al di fuori di questi casi si potrà prevedere che l'avvalimento quando sia richiesta una particolare qualificazione operativa non di titoli il soggetto ausiliato cioè colui che ottiene l'avvalimento dimostri di avere lui i mezzi e le risorse altrimenti dovrà dimostrare di averle avute dall'ausiliario quindi il famoso problema io pongo questo problema perché potrebbe diventare importante ad esempio sul piano del diritto del lavoro per quanto riguarda il lavoro interinale o diciamo il distacco perché oggi il distacco è vietato da parte dell'ausiliario perché si dice che l'ausiliario non avrebbe un interesse in realtà ce l'ha perché è una responsabilità solidale ma ciò non toglie che oggi sarebbe addirittura imposto perché addirittura io non posso ricorrere all'avvalimento se non dimostro di avere requisiti o di averli avuti questo è un aspetto interessante perché è un aspetto interessante da questo punto di vista della struttura ulteriore aspetto e chiudo su questo avvalimento anche se non è nell'ordine ma solo per farvi un riferimento importante perché è un aspetto interessante è il dato che per l'avvalimento la nuova norma prevede la possibilità o il diritto dell'amministrazione appaltante di chiedere in corso in corsa la sostituzione dell'ausiliario cosa che non sarebbe mai consentita oggi infatti la norma dice l'amministrazione di giudicatrice possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dice dall'offerente e poi può chiedere l'amministrazione giudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sussistono motivi d'obbligatorie di esclusione su questo è importante perché questo potrebbe avere anche molto interesse perché sulle cause di esclusione è un'altra delle aree sulle quali la nuova direttiva incide significativamente e non solo l'amministrazione giudicatrice può imporre o essere obbligata dallo Stato membro questa è un'allocuzione comunitaria a imporre che l'operatore economico sostituisca un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione come per dire se l'ausiliario si rende colpevole di una condanna per i reati o delitti meglio che nella norma della direttiva sono delitti assoluti o in un altro caso venga accertato che l'ausiliario non paga i contributi sociali e le tasse automaticamente potrebbe essere obbligato l'ausiliato a sostituire l'ausiliario altra situazione invece per tutti gli altri casi che sono facoltativi in questi altri casi l'amministrazione potrebbe chiedere a questa disposizione impostazione fa correlazione la norma che viene immediatamente molto vicina in materia di subappalto l'articolo 71 il quale dice che anche per il subappalto l'amministrazione potrà sempre chiedere la sostituzione del subappaltatore un'operazione analoga a quella che oggi è consentita l'amministrazione appaltante solo per i casi riferiti alle figure dei direttori tecnici di cantiere è consentito all'amministrazione di chiedere la sostituzione all'allontanamento del direttore tecnico di cantiere quando sia soggetto che non sia gradito o abbia comportamenti o condotte che rendano di ostacolo la gestione del contratto ma è l'unica situazione nella quale l'amministrazione può chiedere la modificazione dell'assetto diciamo dei soggetti che operano nella compagine all'interno dell'appalto altre considerazioni molto interessanti sono invece fatte e quindi passerò anche in relazione rassegna alcuni degli elementi secondo me più significativi anche innovativi nelle definizioni che molto spesso sono elementi che si leggono anche abbastanza velocemente ma sono invece a volte contengono delle cose molto interessanti segnalo che sono introdotte due nuove figure che in prospettiva potrebbero essere e aprire molto essere di interesse del mercato si fa riferimento ad un'attività di committenza ausiliaria cioè in buona sostanza si consente che un soggetto che probabilmente non è detto che sia né pubblico né privato possa svolgere un'attività di consulenza sullo svolgimento sulla progettazione delle procedure di appalto una preparazione della documentazione una sorta di segmentazione delle attività della centrale di committenza che invece sarebbero unitarie e che quindi fino ad oggi non possono consentire il trasferimento all'esterno di ruoli che sono proprio della committenza quindi in buona sostanza la possibilità per esempio di un'amministrazione di affidarsi ad un soggetto terzo per preparargli la documentazione di gara o fargli una consulenza e la prova provata che questo non è in contrasto con il ruolo di privato è il fatto che ci si preoccupa nei famosi conflitti di interesse che questi soggetti possono addirittura partecipare alle gare poi successivamente in questo caso c'è una particolare cautela perché si dice beh attenzione l'importante è dimostrare che la loro collaborazione non è tale da poter influire sulla regolarità o sulla composizione dell'offerta ma ancora di più al punto 17 nelle definizioni si parla di prestatore di servizi quindi un'attività assolutamente non tabellata di appalto che è uguale un organismo pubblico o privato che offre attività di committenza ausiliare sul mercato quindi questa è la prova che l'attività di supporto e di consulenza può essere svolta anche dal soggetto pubblico o privato la provocazione che non è una provocazione ma è una constatazione e non la faccio a livello locale nostro ma anche a livello locale più generale le problematiche che spesso oggi incontrano le famose centrali di committenza a cui noi ci riferiamo anche sul territorio locale o extralocale le famose agenzie o le agenzie per i contratti che spesso sono in difficoltà per la grande mole di attività e con un rallentamento dei tempi il legislatore comunitario ha trovato una soluzione creando uno strumento lecito per affidare da parte di questi all'esterno attività preparatorie o diciamo di gestione documentale sembra una cosa che potrebbe essere di significativo interesse ulteriori due accenni sulle definizioni si parla di ciclo di vita e di innovazione questi aspetti sono gli aspetti fondanti dal punto di vista generale uno dei pilastri della nuova codificazione della direttiva comunitaria la direttiva comunitaria è volta in buona sostanza a ritenere che questi due argomenti che più riprese si ritrovano poi nelle norme specifiche sono destinati ad incidere significativamente sulla gestione dei contratti pubblici per i prossimi anni e in realtà le implicazioni di questi due termini sono talmente ampie e tali che probabilmente creeranno a mio avviso invece qui i grossi problemi di recepimento per esempio questo tipo di caratteri ha una prima riflesso sul completo capovolgimento dei sistemi di aggiudicazione noi siamo passati da un sistema di aggiudicazione parlo dell'offerta al massimo ribasso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una prima fase in cui non si contemplava l'offerta economicamente più vantaggiosa se non in casi eccezionali e collegata a tipologie di contratti particolari all'epoca era l'appalto concorso piuttosto che poi successivamente il dialogo competitivo ad una direttiva l'attuale vigente in cui i due sistemi sono alternativi all'ultima visione versione o meglio la versione della direttiva che sarà vigente l'anno prossimo che non contempla più l'offerta al massimo ribasso o meglio dice che l'unico sistema di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa e sarà eccezionale e motivato il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni al massimo ribasso ora noi capiamo che questo tipo di ragionamento potrebbe essere oggi già affermato perché noi sappiamo che già a livello di codice che di normativa provinciale il meccanismo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è inteso come diciamo premiante o comunque da privilegiare però attenzione che l'aspetto più significativo è che non è più l'offerta economicamente più vantaggiosa di cui avevamo menzione o memoria perché in realtà essa si basa appunto sull'ampio ingresso del famoso concetto di ciclo di vita ciclo di vita che è sostanzialmente l'estrinsecazione del famoso costo vita di un'opera o di un servizio per cui ai fini dell'aggiudicazione si dovrà tener conto dell'offerta del soggetto concorrente che sia in termini di costo vita la migliore che vuol dire che abbia minori costi interni cioè minori costi di manutenzione minori costi di sostituzione abbia presenti materiali di durabilità assolutamente elevata ma soprattutto anche costi cosiddetti esterni esternalizzabili e cioè la famosa premiata di essere premiato e questo è l'ultiore elemento cui ha fatto ceno già il collega prima riguardante il concetto di impatto ambientale impatto ambientale o sociale o di tutela del lavoro cioè sostanzialmente quel bene o quel servizio che esprima in termini esterni il miglior danno o le minori conseguenze sul piano ambientale e diciamo anche il costo sociale o comunque il costo del lavoro questo è un aspetto molto importante perché in questa logica poi e questo è l'altro aspetto macroscopico è dato dal fatto che il legislatore comunitario così come premia il ciclo vita così come premia l'innovazione cioè sostanzialmente spinge a sviluppare tutti quei meccanismi di sistemi di aggiudicazione di gara che abbiano un effetto di acquisire elementi innovativi diciamo di tecnologia in termini diciamo proprio di scoperta scientifica o di miglior prodotto ricercabile sul mercato o da innovare e sulla scorta di questo elemento sostanzialmente afferma una prevalenza marcata per i sistemi di aggiudicazione che non siano quelli aperti o procedure ristretti ma tutti a favore delle procedure negoziate sembra un passaggio assolutamente epocale posto che se noi pensiamo all'ordinamento interno la procedura negoziata è sempre vista con un estremo sospetto quasi che sia diciamo un elemento che includa in sé dei profili diciamo di illegittimità il legislatore comunitario fa proprio un salto completamente all'opposto ma in realtà è un passaggio apparentemente in conflitto nel senso che il legislatore comunitario da un lato restringe e ribadisce i limiti assoluti del ricorso alla procedura negoziata senza bando quindi quelle forme di trattativa privata diretta significativamente affermata nei confronti dei soggetti già affidi da cui devono essere affidati i contratti restringendo ulteriormente il campo mentre le procedure negoziate a cui fa riferimento tra l'altro in cui introduce due nuovi modelli sono procedure negoziate precedute da bando quindi in buona sostanza sono procedure negoziate che assolvono la pubblicità ma nel tempo stesso sono gestite a livello negoziale qual è l'effetto utile che nelle procedure negoziate al più e maggiormente che nel caso del dialogo competitivo nelle procedure ristrette è possibile ridurre il numero dei soggetti offerenti ma non solo ma le meccanismi che sono introdotti a livello di negoziazione sono tali per cui piano piano si riduce via via i soggetti che di fatto verranno a partecipare quindi da questo punto di vista l'affermazione della normativa comunitaria nuova tende in questa misura diciamo ad ampliare i casi di scelta delle procedure orientandole verso queste forme delle forme sostanzialmente negoziate in ampio ricorso l'esempio è la nuova procedura competitiva con negoziazione l'articolo 29 che in buona sostanza è una procedura negoziata dove la negoziazione si fa sulle offerte dei vari concorrenti cioè in buona sostanza si fa un bando in cui si dice ai concorrenti io ho bisogno di un certo tipo di prodotto per certi tipi di caratteristiche o un'opera che soddisfi a certi tipi di caratteri prestazionali chi è interessato previo la qualificazione mi produca un'offerta che dia indicazioni di quello che sarebbe il prodotto che sarebbe in grado di offrire sulla base di questo le amministrazioni pubbliche avviano una sorta di confronte di negoziazione successiva solo con coloro che hanno presentato il prodotto fino ad raggiungere un momento nel quale il prodotto migliore con le caratteristiche migliore è messo sostanzialmente a gara finale lì tutti gli offerenti faranno la loro offerta che sarà anche economica perché evidentemente il dato economico non è eliso è una sorta di dialogo competitivo solo che il dialogo competitivo rimane però è un'operazione diversa perché nel dialogo competitivo in realtà l'elemento sul quale io chiedo l'offerta non è presentato fin dall'inizio ma io come amministrazione avvio una consultazione fino alla identificazione dell'oggetto e poi chiedo l'offerta quindi è un percorso esattamente contrario e i limiti per l'utilizzo di questi elementi non sono così elevati diciamo che c'è una certa margine di ampiezza dentro i quali l'amministrazione può ricorre a questi strumenti non sono casi tassativi quindi casi in cui tutte le volte in cui sostanzialmente l'amministrazione ritenga opportuno utilizzare questo tipo di strumento per avere al meglio il prodotto sul quale ottenere l'offerta l'ulteriore ipotesi è il parternariato per l'innovazione in realtà questa è una norma che viene a risolvere articolo 31 della direttiva la questione del e-commerce sostanzialmente o e-procurement sostanzialmente voi sapete le famose discussioni sulla possibilità di fare appalti precommerciali la difficoltà che si è registrata nel definire gli ambiti contro i quali questi appalti precommerciali potevano essere svolti allora la norma comunitaria tende a risolvere questo problema introducendo un istituto molto articolato che è questo patenariato che si può utilizzare tutte le volte in cui non si ha l'idea di che cosa ci possa essere sul mercato quindi in realtà è proprio anzi si afferma che dovrebbe essere un prodotto innovativo o un lavoro un'attività innovativa un servizio innovativo per il quale si deve sviluppare da lì in avanti una ricerca insieme che porti a un prodotto o a un bene di appalto che però per la comunità e qui opportunamente interviene deve essere chiarita quale situazione si abbia nell'ambito dei diritti di sfruttamento e quindi brevetti e marchi sostanzialmente si dice non è ammissibile che un'amministrazione faccia una precommerciale e poi non abbia titolo a ottenere lo sfruttamento in via esclusiva del bene prodotto voi sapete che su questo argomento la problematica è molto scottante perché in molti casi si avviavano questi appalti si sviluppava l'idea innovativa ma il prodotto e la brevettabilità di questo prodotto rimaneva in capo al soggetto partecipante privato e dove l'amministrazione al più aveva una compartecipazione all'utile sfruttamento oppure una sorta di esclusiva di acquisizione ma non un diritto di proprietà del brevetto la comunità dice questa applicazione si può attuare quando si è chiarito che quantomeno nei considerandolo si chiarisce questa paternità del bene intellettuale del marchio del brevetto sia assicurata anche la pubblica amministrazione appaltante altri aspetti interessanti che sono anche qui molto rilevanti dal punto di vista per quanto riguarda le problematiche anche attuali specifiche tecniche faccio un accenno oggi sono disciplinate l'articolo 42 lo erano nell'articolo 23 della direttiva comunitaria anche qui la modifica è testuale ma a mio avviso è tale da poter incidere già d'indoggi nell'interpretazione delle regole di bando mi spiego la nuova direttiva dice al paragrafo 5 quando si avvalgono della possibilità di fare riferimento alle specifiche tecniche ricordo che la specifica tecnica è la descrizione tipologica o prestazionale di un bene o prodotto sappiamo che non si dovrebbe mai fare riferimento a beni e marchi specifici ma che si possono anche fare con il famoso carattere equivalente oggi la direttiva comunitaria dice le amministrazioni giudici non possono non possono respingere un'offerta per il motivo che i lavori le forniture i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento se nella propria offerta l'offerente prova con qualsiasi mezzo appropriato compreso dei mezzi di prova specifici che sono trattati in una norma particolare che sono sostanzialmente le certificazioni da ente terzo che le soluzioni proposte contemperano in maniera equivalente requisiti definiti dalle specifiche tecniche la norma attuale invece dice la stessa cosa però che l'offerente prova in modo ritenuto soddisfacente dalle amministrazioni quindi c'è un vaglio da parte delle amministrazioni circa l'adeguatezza o la conformità essendo in questo senso dotate di ampia discrezionalità le amministrazioni nel nostro caso o meglio nel caso della nuova direttiva non esiste più la possibilità di escludere non esiste una valutazione diciamo di adeguatezza si dice tu non mi puoi escludere se ti porto che dal certificato dell'ente terzo le prestazioni di questo prodotto ancorché non ha le specifiche tecniche uguali ha le stesse prestazioni beh su questo argomento voi sapete quante discussioni si fanno e quante volte questo si è prestato a una sorta a volte anche di tra virgolette in parte speriquazione o quantomeno hanno avuto delle forme occulte di sostanzialmente di preservazione di mercato vengo ad ulteriori due aspetti che a mio avviso sono anche questi molto importanti innanzitutto parlo dopo di quello che saranno poi le varianti parlo invece per quanto riguarda l'introduzione per la prima volta nella direttiva del soccorso istruttorio soccorso istruttorio di cui sappiamo tutto perché con tutto quello che l'esilatore nazionale ha fatto sull'articolo 38 con le modifiche introducendo particolari forme di ampiezza circa il soccorso istruttorio arriva anche il contributo della direttiva la quale dice peraltro e sembrerebbe ampliare dice se le informazioni o la documentazione che gli operatori economici devono presentare parliamo dell'articolo 56 sono o sembrano essere incomplete o non corrette o se mancano documenti specifici quindi parla anche di mancanza di documenti le amministrazioni e giudicatrici possono chiedere salvo disposizione contraria in questo caso ci potrebbe essere una disposizione contraria dello Stato membro quindi è un aspetto sul quale bisognerà vedere come il recepimento si attuerà se nella logica che è stata data oggi o modificando in parte l'attuale sistema di presentare integrare chiarire completare le informazioni o la documentazione in questione entro un termine adeguato a condizione che tale richiesta sia effettuata nella piena osservanza dei principi di parità trattamento e trasparenza questo tipo di obbligo di integrazione evidentemente è funzionale a un altro principio che sembra anche questo innovativo non esiste più una sorta di preclusione assoluta per i soggetti partecipanti di poter rimediare sia elementi documentali come il caso di specie sia elementi anche di qualificazione cioè in buona sostanza la direttiva introduce e questo a mio avviso crea non pochi problemi nell'operatività concreta una sorta di meccanismo attraverso il quale anche le peggiori condizioni o l'assenza di requisiti che sarebbero tali da non consentire a un concorrente di partecipare potrebbero in un certo tipo di condizioni che sono previste dalla nuova direttiva essere superate in buona sostanza si ammette una sorta di diritto di replica o diritto di poter affermare una sorta di differenziazione rispetto alla condizione e infatti quando noi parliamo dell'articolo 57 sui motivi di esclusione qui troviamo una serie di novità anche qui molto interessanti allora la direttiva nuova si basa su a differenza della precedente su motivi di esclusioni tassativi cioè che non ammettono discussione almeno dal punto di vista dell'automatismo della sanzione della non ammissione da altri requisiti che conducono alla facoltà per le amministrazioni di escludere nella prima categoria cioè di quelle condizioni per la partecipazione che per noi sono l'articolo 38 del codice dei contratti tanto per fare un parallelo attuale si trovano le condanne con sentenza definitiva per tutta una serie di delitti che sono partecipazione all'organizzazione criminale la corruzione corruzione peraltro nella nuova definizione più ampia della modifica del codice anche ai fini dell'articorruzione quindi una casistica abbastanza ampia e non ben ancora definita la frode i reati terroristici riciclaggio e lavoro minorile quindi queste ipotesi portano per effetto della condanna definitiva all'esclusione interessante il paragrafo successivo che se io ripenso quello che succede oggi è destinato a creare particolare scompiglio il legislatore su questo comunitario su questo è stato veramente molto severo perché dice l'obbligo di escludere un operatore economico si applica anche nel caso in cui la persona condannata definitivamente è un membro del consiglio di amministrazione noi sappiamo che oggi il concetto è di amministratore avente poteri non il semplice componente del consiglio di amministrazione questo in qualche misura bacchetta situazioni nelle quali sappiamo che l'operatore economico condannato esce dalla porta e si mette dentro a volte come componente il consiglio ma di più di direzione e qui forse il concetto di amministratore nella nuova nella più ampia definizione giurisprudenziale copre anche questi concetti o di vigilanza il famoso sindaco o collegio sindacale quindi anche su questo diciamo la norma è tale o una persona aventi poteri di rappresentanza di decisione o di controllo quindi la norma comunitaria fa una sorta di ampio solco chi è in questa condizione non può avere alcun tipo di contatto con la gestione o il controllo o la direzione della società in cui opera inoltre si aggiunge un'altra causa di esclusione e qui obiettivamente il reggitore comunitario ci sorprende un attimo almeno la decisione della Corte di Giustizia recente in materia di DURC e di compatibilità della normativa specifica sul DURC con l'ordinamento comunitario aveva già fatto piazza pulita ma è una decisione successiva la direttiva dice un operatore economico escluso quindi altra causa tassativa se l'amministrazione giudicatrice ha conoscenza del fatto che l'operatore economico non ha temperato agli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali e se ciò è stato stabilito da una decisione giudiziaria amministrativa avendo effetto definitivo quindi in buona sostanza ci dice che chi abbia una sorta di acquisizione definitiva e qui poi il problema ci sarà circa il mancato pagamento di tasse o contributi sociali automaticamente è escluso ed è una causa esclusione non facoltativa imperativa perché poi la normativa continua dicendo che comunque possono essere esclusi anche coloro che sono stati accertati dall'amministrazione in qualsiasi modo non abbiano non siano in regola non abbiano temperati agli obblighi in questa logica si inserisce il famoso effetto del DURC che attesta un mancato pagamento di contribuzione in questo caso però il legislatore comunitario lo mette come un'ipotesi facoltativa tutto questo però con una facoltà degli stati membri di diciamo attenuare l'effetto per quanto riguarda la facoltativa non la definitiva cioè di poter dire potremmo anche stabilire che se sono pochi i contributi o poche le tasse comunque non meriti di essere escluso questo è l'aspetto che mi interessa invece la parte successiva che potrebbe essere anche questa un elemento che potrebbe giocare un ruolo anche già fin d'ora perché dice il legislatore comunitario oppure anche nel caso in cui l'operatore economico sia stato informato dell'importo preciso dovuto è la famosa norma di informativa legata alla previa contestazione del DURC circa la sua violazione degli obblighi relativa al pagamento di imposti di contributi prevenziali in un momento però in cui non aveva la possibilità di prendere provvedimenti in merito prima della scadenza del termine ora è una delle tematiche che ci ha occupati in questo periodo anche vedendo sulle rassegne giurisprudenziali in buona sostanza c'è la partecipazione alla gara io dichiaro la regolarità contributiva poi il DURC viene acquisito verificato successivamente e magari in quel momento non c'era un avviso ancora di diciamo di contestazione su questo sappiamo che la giurisprudenza è ancora non ben assestata perché c'è da un lato l'adunanza plenaria sull'effetto certificativo del DURC dall'altro anche un recente orientamento del Consiglio di Stato che invece dice che questa DURC attiene solamente all'evento certificativo ma non attiene alla definitività e quindi sembrerebbe aprire un concetto circa il carattere di assunzione da parte del DUR del ruolo di certificazione del debito contributivo ma anche della sua definitività quindi su questo probabilmente ci sarà a mio immagino e prenotiamo già un'adunanza plenaria perché evidentemente su questi argomenti sicuramente avremo a breve un'adunanza plenaria che dirà che nel contrasto ci dirà fino in fondo cosa voleva dire quella precedente se quella precedente era anche intesa sulla definitività oppure no il legislatore comunitario sembra invece propendere per una disciplina molto puntuale dice devi dimostrarmi che all'atto della partecipazione tu non eri a conoscenza di un debito contributivo e successivamente a quella scadenza ormai era troppo tardi evidentemente perché il meccanismo di verifica rende impossibile diciamo la sua regolarizzazione accanto a queste dimostrazioni di requisiti di esclusione di partecipazione facoltativi aggiungo un aspetto solo perché è importante perché è di attualità la famosa problematica che diventa facoltativa qualsiasi altra causa di esclusione dell'articolo 38 quindi perfino lo stato di fallimento non è più una causa di esclusione obbligatoria e questa è una cosa assolutamente nuova e questo è interessante perché dice la norma comunitaria si potrà prevedere la possibilità che l'amministrazione giudicatrice non escluda un operatore economico che sia versi in uno stato di fallimento o con un'amministrazione controllata che si trova in una delle situazioni di quella letta letta qualora l'amministrazione giudicatrice abbia stabilito che l'operatore economico in questione sarà in grado di eseguire il contratto tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione dell'attività allora qui dentro c'è il famoso concordato con prosecuzione dell'attività con continuità aziendale di cui ormai sappiamo è stato ampiamente ricorso però in realtà la norma non limita questo sembrerebbe consentire un'ampia possibilità di non escludere per questo fatto quando si possa avere certezza che l'attività verrà proseguita da ultimo aggiungo un aspetto anche questo molto importante perché su questo ad esempio non c'è assoluto pronunce giurisprudenziali o interpretazioni o norme che lo definiscono e quindi secondo me anche in questo caso la direttiva avrà un effetto che potrebbe essere interpretativo ed è la famosa problematica di quanto duri l'agonia per coloro che si siano macchiati di un delitto o abbiano fatto dichiarazioni mendaci in sede di prestituzione nelle gare d'appalto che di fatto abbiano taroccato i certificati per poter avere l'attestazione cioè tutte quelle cause che portano a un'interdizione oppure portano a una condanna soprattutto voi sapete che oggi il meccanismo è tale per cui di fatto fino alla scadenza del periodo per ottenere la riabilitazione nel caso dei delitti uno non può più assumere cariche e partecipare a gare d'appalto né può assumere un ruolo amministrativo tant'è che insomma questo è un po' un elemento abbastanza interessante il legislatore comunitario salta completamente il fosso perché dice in primo luogo un operatore economico che si trovi in quei famosi problemi di tassatività di causa di esclusione quindi pensiamo di uno che è stato condannato addirittura per dico riciclaggio contro le normative delle più pessime anche il terrorista voglio dire può fornire quindi non è escluso può fornire prove del fatto che le misure da lui adottate sono sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione e riva Dio è una causa trattaciativa se tali prove sono ritenute sufficienti l'operatore economico in questione non è escluso dalla procedura di appalto e questo amplia ulteriormente la discrezionalità della pubblica amministrazione perché la valutazione ovviamente è rimessa la pubblica amministrazione ma l'amministrazione appaltante ma di più a tal fine l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di aver essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato da reato o da illecito e poi qui di aver chiarito i fatti non si sa bene che cosa deva chiarire i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative cioè stiamo andando su un percorso abbastanza che se noi guardiamo il nostro realtà non so come potrà essere recepito nell'ordinamento nazionale e in più di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico organizzativo in praticamente il 231 diciamo che questo ci sta ovviamente questo vale ove non ci sia stata un'interdizione specifica al contrario della pubblica amministrazione perché in questo caso non vale la prova ma norma di chiusura interessante invece è l'ultima disposizione in cui dice che se non c'è un intervento del leggellatore e chiarisca la durata della gogna i casi il periodo di esclusione non può superare i 5 anni della data di condanna quindi siamo al di sotto del periodo normale per l'estinzione degli effetti di delitto o per poter ottenere la riabilitazione o 3 anni nel caso in cui gli altri casi di quel paragrafo 4 quindi ad esempio nell'ipotesi di non aver parato le tasse o di non aver o di aver avuto una sentenza per evasione in buona sostanza che comporta delitto che sarebbe una causa di esclusione può essere traguardata e non può essere estesa oltre il triennio questo è un principio che evidentemente anche qui potrebbe integrare fino a quando e fino a che momento questa causa di esclusione può essere ma non è solamente il caso pensiamo all'ipotesi di chi abbia avuto una risoluzione in danno del contratto per cui non si sa mai fino a quando con quell'amministrazione non può più contrarre ne sappiamo che uno per partecipare deve dichiarare di non aver commesso errore grave accertato con ogni mezzo la stazione appaltante ed è il caso tipico della risoluzione in danno non si è mai stabilito quanto tempo duri questa gogna in realtà assembrare in base alla direttiva sarebbero 3 anni quindi vuol dire se ho avuto la risoluzione in danno del contratto io non posso partecipare alle gare di quell'ente appaltante secondo la direttiva per non più di 3 anni cosa che fino ad oggi invece non è stato chiarito da nessuna parte e la autorità di vigilanza si è ben guardata da affermare quanto possa durare io mi dovrei fermare aggiungo solamente un aspetto articolo 71 si occupa dei subappalti l'unica cosa di cui dobbiamo dar conto è che la direttiva assolutamente sponsorizza il pagamento diretto dei subappaltatori come un meccanismo che dovrebbe essere addirittura anche utilizzato ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta nel senso che può essere un elemento di economicità che può rendere più economica o più sgravata o di condizioni particolari non si sa bene quale indicazione possa essere ma così è e l'ulteriore aspetto che questa disposizione e le tutele che comportano anche la possibilità di chiedere la sostituzione del subappaltatore si estende anche ai subappaltatori dei subappaltatori e qui si aprirà l'ulteriore frattura secondo me non sanabile con il legislatore italiano che parlare di subappalto e subappalto evoca spettri che evidentemente nella legislazione antimafia prima e nella legislazione del codice oggi hanno sempre ritenuto inammissibile invigliatata illecita la disposizione della direttiva è inequivoca dice dovete anche prevedere l'ipotesi dei subappalti dei subappalti sulle varianti faccio solamente un accenno le varianti sono tassativamente ridotte soprattutto diventerà scandaloso nel senso che crea scandalo non perché è scandalosa la prescrizione che identifica le famose variazioni essenziali al cui concorrere non si potrà che dar corso alla risoluzione del contratto quindi ci sono un'affermazione generale che dice che la variante è essenziale quando cambia o muta l'oggetto ma qui diciamo che c'era anche oggi questa disposizione ma poi si ritengono essenziali la lettera è già interessante la modifica introduce condizioni che se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale avrebbe consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati pensate alle ipotesi di varianti in cui si introduce una categoria di lavoro in parte diversa che non pesa nell'economia dell'appalto principale ma che diventava un appalto di opera scorporabile per la quale magari l'operatore della variante non ha la qualificazione e normalmente ti dichiara di suo appaltare l'intero importo non solo ma che avrebbero potuto avere anche diciamo ampliato l'ambito di partecipazione la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto dell'accordo quadro a favore della giudicataria la famosa variante che ti toglie la prestazione in cui perde e gli do tutta un'attività in cui guadagna tanto il guamaggio economico cambiato sarebbe una condizione di variazione essenziale non declinabile non superabile se poi addirittura un concorrente se un nuovo contraente sostituisce su cui l'amministrazione giudicatrice aveva inizialmente aggiudicato ma ci sono salvaguate date tutte le ipotesi di cessione fusione è un'ipotesi diciamo di cessione del contratto sostanzialmente sulla risoluzione dei contratti anche su questo la direttiva introduce un obbligo di risoluzione cosa che evidentemente si attua tutte le volte in cui c'è una variazione essenziale tutte le volte in cui il soggetto giudicatario si trovi in una condizione di successiva di fatto perdita del requisito e la cosa interessante è da dire che da questo punto di vista non ci sono valutazioni circa lo stato di esecuzione del contratto questa situazione cala come un'obbligazione ultimo aspetto le varianti sono ammesse quelle senza necessità di motivazione nel limite del 15% dell'appalto principale quindi il quinto d'obbligo è andato a perdersi definitivamente perché qui le varianti ordinarie sono nel 15% come dico le disposizioni e quanto oggetto di direttiva sembrano preludere novità interessanti dal punto di vista del recepimento a mio avviso con grossi problemi di impatto a livello diciamo della legislazione tenuto altresì conto che la direttiva tenderebbe ad evitare forme di sovrapposizione di legislazioni quindi ci sarà anche la famosa ulteriore problema di rapporti della legislazione nazionale con quelle delle province autonome delle regioni della struttura speciale nella misura in cui queste dovessero in qualche misura porre delle differenze o delle distonie rispetto a quello che potrebbe essere l'impatto complessivo del recepimento in quale la sostanza leggellatore nella direttiva dice che disegnerebbe evitare comunque l'effetto di una moltiplicazione dei centri di regolazione proprio per evitare che la direttiva possa prestarsi a diverse forme di recepimento a seconda della condizione del soggetto che legifera è chiaro che gli elementi che sono all'interno sono direi molto rilevanti anche dal punto di vista che implica una diversa strutturazione proprio dell'organizzazione della pubblica amministrazione appaltante e quindi su questo probabilmente il dibattito non sarà di poco conto quello che rimane sullo sfondo è che se non avverrà il recepimento nel 16 aprile le problematiche saranno tutte sul piatto perché si comincerà a ragionare di quante di queste norme sono immediatamente precettive quelle che hanno un effetto puramente indicativo però i testi sono per l'ennesima volta in una linea che ormai sta andando avanti sempre più puntuali sempre più precisi e i considerando stessi sono tali da poter illustrare in modo molto certosino questo tipo di diciamo di impostazione io mi fermo e so che vi ho portato via qualche minuto in più però le nomi sono tanti grazie all'avvocato Tita per questo arrembante e ricchissimo intervento solo una veloce chiosa di un minuto proprio un tweet prima di dare diciamo spazio eventuali domande mi pare dai due interventi che abbiamo avuto da ultimo che si sia davanti a novità davvero importanti che si allontanano in parte da principi e regole che avevamo imparato e ritenevamo consolidati come ci ha detto il dottor Tenka per esempio in materia di house providing si prende quanto avevamo imparato nelle sentenze Tecal Parkin-Brixen e Coditel-Braban e lo si sovverte completamente la stessa cosa per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione dell'appalto come ha sottolineato l'avvocato Tita ecco io credo che l'origine di questi grandi scoinvolgimenti sia da ricercare almeno in parte nella crescente complessità del legal process comunitario infatti vi dicevo prima il coinvolgimento crescente del Parlamento rende il processo certo più democratico e certo più fluido ma in parte si allontana da quel modello puro di recepimento che promuoveva invece la Commissione Europea che quando esercitava un ruolo maggiore e in qualche modo di primazia codificava con grande fedeltà gli indirizzi giurisprudenziali della Corte di Giustizia adesso se abbiamo domande tra il pubblico sì volevo iniziare io intanto volevo iniziare ringraziando perché è stata un'analisi micro e macro no? cioè siamo partiti dalle grandi linee delle direttive siamo arrivati anche a vedere singoli e specifici problemi che le direttive apriranno io concordo sulla visione dei relatori e anche l'ultimo spunto sul ciclo della vita che ha rilevato l'Avvocato Tita e ciò che aveva detto anche Samuel Cornella in apertura cioè mi pare che dopo un periodo in cui le direttive comunitarie avevano imbrigliato molto le scelte dell'amministrazione si vada verso un sistema più flessibile e del resto tutta la fase di consultazione che si è aperta prima di arrivare alle nuove direttive aveva mostrato come da parte degli stakeholder questo desiderio di una maggiore flessibilità cioè l'idea che fossero delle regole troppo fisse troppo formali ormai eccessivamente processualizzate eccetera però io penso che ora ci dobbiamo preoccupare dell'effetto di questa flessibilità perché intanto queste direttive avranno un impatto molto diverso a seconda dei sistemi in cui si poi andranno a vivere diciamo perché un conto è una direttiva che dà questo spazio di manovra all'amministrazione in Svezia dove il fenomeno della corruzione per esempio è un fenomeno molto molto contenuto il problema è come questa direttiva vivrà in Italia in Grecia in Spagna dove come sappiamo il fenomeno della corruzione è molto maggiore e soprattutto se uno dei problemi che il nostro paese vive in questo momento è il contenzioso sui contratti pubblici tanto che le amministrazioni stesse spesso preferiscono avere regole rigide muoversi cioè in un quadro molto predefinito mi domando quale sarà l'effetto sull'amministrazione stessa che si troverà diciamo attraverso questa finalizzazione per finalità ambientali sociali a gestire uno spazio maggiore di manovra che forse forse non avrebbe neanche voluto ma soprattutto quale sarà l'impatto sul contenzioso che secondo me avrà scusate avrà probabilmente un incremento ulteriore allora da questo punto di vista io per esempio non sono così preoccupata del fatto che la legge delega per il recepimento della direttiva tenti un'ulteriore apertura verso le ADR perché io penso da tempo che il nostro sia un sistema amministrativo eccessivamente processo centrico ci sono sistemi per esempio il sistema statunitense dove probabilmente l'80% del contenzioso dei contratti pubblici non arriva alle corti perché viene gestito ma viene gestito bene dalle amministrazioni cioè il problema non è quello di avere paura delle ADR ma di costruire delle ADR credibili cioè di costruire all'interno dell'amministrazione o presso agenzie speciali se vogliamo anche diciamo distaccarci per esempio dal modello americano dei rimedi amministrativi che funzionino e che quindi abbiano alla base degli incentivi che consentano loro di funzionare e delle regole anche sulla separazione dall'amministrazione e dico questo anche perché sappiamo bene come il contributo unificato renda costose la via di tutela giurisdizionale quindi secondo me questa discrezionalità che probabilmente in parte è ospicabile per far entrare queste nuove finalità è una discrezionalità che nel nostro sistema darà vita nuovi grandi problemi che incrementerà ulteriormente il contenzioso e per questo a me pare invece che una via alternativa al processo debba essere cercata io mi inserisco nel quadro che è appena stato delineato perché sul problema dell'ADR concretamente anche con il nuovo recentissimo decreto sulla degiurisdizionalizzazione delle procedure abbiamo avuto un'apertura per le pubbliche amministrazioni però il problema è che concretamente sul terreno delle amministrazioni non c'è ancora la cultura non c'è ancora la preparazione e soprattutto le amministrazioni non confidano in questi strumenti cioè le amministrazioni si sentono tutelate nella misura in cui accedono ai rimedi tradizionali di natura giurisdizionale soprattutto quando si tratta di contratti di notevole importo di notevole impatto le amministrazioni difficilmente già pensano a rimedi diversi da quelli che possono essere l'accesso al rimedio giurisdizionale nelle corti oppure all'arbitrato altre forme diventano difficilmente spendibili oggi perché le amministrazioni temono sempre poi comunque la responsabilità di natura amministrativa contabile conseguente alla stipulazione di un accordo che possa prevenire o mettere fine ad una controversia e quindi preferiscono non utilizzare questi sistemi dal mio punto di vista è una questione proprio anche di natura culturale e di percorso che devono fare le amministrazioni per poter accedere a questi sistemi non so magari cosa ne può pensare il collega se è sul terreno sul campo delle pubbliche amministrazioni ma ad esempio io qualche volta proprio nella concreta esperienza professionale a contatto con le amministrazioni noi ci scontriamo come professionisti con questa situazione per cui anche quando ci sarebbero le condizioni o i presupposti per poter divenire ad una soluzione con dei tempi più brevi e con dei costi più limitati le amministrazioni difficilmente ci arrivano anzi proprio magari lo escludono perché non si sentono sufficientemente tutelate da altri sistemi purtroppo c'è questo problema che è di natura culturale allora sicuramente questo è uno dei problemi più rilevanti ma del resto se vogliamo cogliere qualche spunto interessante dalla direttiva in questo senso al di là del fatto della necessità di necessariamente dotare le amministrazioni di un supporto diciamo complessivo ad affrontare la problematica dico da un lato la previsione di figure di consultazione o di consulenza volta a rendere l'amministrazione partecipe di un processo decisionale opportuno secondo un criterio classico del problem solving nel senso ho questo obiettivo non mi faccio diciamo scrupolo a poter ottenere e oggi potrò potrò farlo una consulenza specifica che mi aiuti a individuare la strumentazione all'interno di questa ci può essere anche l'affrontare il percorso degli eventuali sistemi di risoluzione dei conflitti tenuto conto che detta molto chiaramente se oggi io avessi la possibilità tecnica quindi il legislatore probabilmente su questo dovrà fare uno sforzo in questione di ricepimento di per esempio incidere sul sistema di precontenzioso in ANAC tale da renderlo possibile ed effettivo e soprattutto efficiente e qualificato perché poi capiamoci se è il famoso parere di precontenzioso della vecchia VCP è meglio che lo prendiamo e lo buttiamo via perché a distanza di 15 giorni a seconda del soggetto cambiava l'orientamento anche di 360 gradi ma se si struttura un meccanismo che è in parte simile per quello che riguarda il sistema sanzionatorio cioè un sistema di approccio paragiurisdizionale ma garantito da certezze dei tempi e di qualità del diciamo del risponso io penso che oggi non sia un problema rinunciare al ricorso amministrativo col contributo unificato il problema è che per fare questo bisogna cambiare radicalmente l'impatto allora può esserci un'autority decisionale vogliamo introdurre sistemi ADR strutturati io penso che su questo si possa arrivare io temo che però il concetto fondamentalmente sia ancora sempre lo stesso e cioè oggi la pubblica amministrazione per prima preferisce che se deve dirgli che qualcuno ha sbagliato sia un giudice a dirgli che ha sbagliato anche a costo che questa decisione evidentemente poi la esponga paradossalmente a un'ipotetico responsabilità io non mi assumo la responsabilità che sia il giudice a dirmi magari condivide addirittura nelle cose peggiori l'idea di una ipotesi di autotutela o di una tutela guidata ma quindi su questo probabilmente il meccanismo alternativo può essere impostato devo dire che c'è anche un ulteriore aspetto che vedo negativo abbiamo di fronte un mercato quello italiano in particolare che è totalmente schizofrenico cioè probabilmente in un mercato dove gli operatori sono un terzo le condizioni di gestione sono completamente diverse c'è una considerazione di fondo della pubblica amministrazione diversa probabilmente dobbiamo probabilmente cambiare completamente la mentalità perché oggi la litigiosità o la contestazione è fine a se stesso proprio perché per partito preso si ritiene che quanto è stato fatto è sicuramente c'è qualcosa che non funziona non c'è una volta in cui uno parte con l'idea accetto il verdetto che ho perso perché tutto sommato la pubblica amministrazione in quella gara ha fatto delle valutazioni peggio ancora se fossero discrezionali oggi addirittura la discrezionalità creerebbe una conflittualità assoluta sappiamo quante problematiche induce oggi l'offerta economicamente più vantaggiosa come la facciamo noi perché evidentemente tutte le volte abbiamo l'idea che la commissione non è a posto che sicuramente qualcuno ha sbagliato dico per primi andiamo a ricercare questi elementi non stiamo nascondendoci cioè il ruolo dell'avvocato in questo è un ruolo che chiaramente lo rispone su questo versante certo è che evidentemente a volte ti rendi anche conto che è difficilmente confinabile questa litigiosità perché è di fronte un mercato che è di vita o di morte nella senso che nemmeno appunto il contributo unificato elevato ha scoraggiato perché tanto morto io è morto anche il contributo unificato voglio dire detta proprio in termini quindi sono ben convinto che la direttiva in un paese di altro genere verrà recepita con molta tranquillità anzi probabilmente già adesso per loro è così però pensare ad esempio di affrontare la decisione usuale di ricorrere ad una procedura negoziata procedimentalizzata o di ceritura creata su questi meccanismi innovativi immagino che uno gli viene già il terrore per dire qua ogni cosa che farò mi verrà contestata in realtà il legislatore comunitario parte proprio invece dal concetto che questo strumento nei considerando tra l'altro è interessantissimo i considerando dice che il dialogo competitivo e la procedura negoziata anche trasfrontaliera è quella che ha dato meno problemi meno scopo contenziosi e più margini di economicità complessiva sembra un altro mondo dal punto di vista di quello che è quello che registriamo da questo punto di vista su questo io prendo atto nel senso che non lo condivido ma quello che mi preoccupa è tanto è il fatto che intanto si pensa di fare un nuovo codice dei contratti il codice dei contratti sembra la negazione di un sistema più flessibile o quantomeno più disponibile però dovremmo vedere anche il prodotto da questo punto di vista immagino che insomma qualche idea ce l'avrà anche il legislatore su questo tipo di modelli però questo è il dato che registriamo insomma due parole se posso inserirmi in un interessante insomma dibattito avviato dalla professoressa Marchetti anch'io penso che la flessibilità di cui insomma abbiamo avuto testimonianza oggi l'ampia flessibilità delle nuove direttive sia un'opportunità però pare scontrarsi con una certa realtà adesso io parlo appunto da operatore della giustizia appunto dei giudici nel tribunale del nostro TAR ho appena sentito parlare appunto di funzionari che si trincerano dietro le norme quindi noi ne abbiamo esempi quotidiani ancora oggi io credo che perché effettivamente questo effetto virtuoso si produca occorrerebbe da parte dell'amministrazione certo un certo lavoro all'interno di se stessa che diciamo accresca la qualità e come dire questa qualità possa incoraggiare a prendersi dei rischi perché è chiaro che di fronte alle flessibilità a strumenti come la modifica addirittura dei criteri di aggiudicazione in corso ci sono dei rischi naturalmente appunto ci si può scontrare con una certa realtà che è quella sia dei fenomeni di corruzione che conosciamo ma anche di funzionari che cercano di agire correttamente che si ritrovano magari denunce penali quindi i quali ovviamente non agiscono con la necessaria serenità e magari a cui può far comodo avere come dire delle regole più precise più certe stesso discorso direi per le ADR le ADR servono se sono credibili e dico io se offrono garanzie di imparzialità perché chiaramente probabilmente il giudice in particolare il giudice amministrativo forte e coraggioso per dirle con le parole del Presidente del Consiglio di Stato all'inaugurazione dell'anno giudiziario cioè deve anch'esso come ultima istanza istanza giurisdizionale dare delle risposte e dare delle risposte forti e delle risposte chiare ci troviamo poi in un campo secondo me ecco questa è l'aggiunta che volevo fare dove appunto ci sono possibili tante opzioni interpretative le abbiamo viste nelle varie singole questioni e dove la stessa a questo punto le stesse direttive tendono un pochino a cambiare a variare quindi l'altro giungo io rischio delle ADR da evitare è di creare come dire una terza tesi interpretativa poi in antitesi con quella del giudice amministrativo che allora magari creerebbe ancora più caos insomma nell'operato delle amministrazioni credo per quanto riguarda infine il giudice amministrativo che la sfida aperta da queste nuove direttive sia anche per il giudice amministrativo una sfida stimolante ma importante nel senso di professionalità nel senso di tempestività e rapidità delle risposte abbiamo ancora questo contributo unificato scandaloso direi però vedremo se insomma la questione si risolverà però nel frattempo gli strumenti normativi a questo punto ci sono perché gli appalti vanno decisi in tempi brevissimi credo che il giudice amministrativo non si deve sottrarre insomma dare queste risposte rapide anche alle amministrazioni e agli operatori altre domande se non ce ne sono altre direi che la seduta è tolta grazie per la partecipazione e al prossimo incontro grazie grazie grazie